L'inverno è caduto su una piccola città. È caduto. La sera tutto era grigio, sbiadito, congelato dalla pioggia autunnale. Ma di notte arrivò il vento, e poi la neve cade a fiocchi spessi, e in un attimo tutto improvvisamente scintillò. Gli alberi si vestivano di pizzi e scialli bianchi come la neve. Le pozzanghere sporche e le aiuole morte si nascondevano sotto soffici coltri. Anche le recinzioni, le finestre delle case e i muri erano ricoperti da un velo di fiocchi di neve. Bellissimo e per nulla freddo. Anna andò al lavoro e ammirò il quadro che aveva davanti agli occhi. Non c'era grigiore, né tristezza, né disperazione. Sembrava che la neve avesse inghiottito tutti i dolori di questo mondo e che ci sarebbe stata solo una nuova vita. Ma che tipo di vita poteva essere? Quando il freddo arrivava al cuore, era gioioso e triste allo stesso tempo. E c'erano momenti difficili dappertutto. Anna lavorava a scuola come insegnante di biologia. Anche suo marito Jay aveva lavorato come insegnante fino a poco tempo fa, insegnando matematica. Ma quando i tempi si fecero duri, decise di lasciare la scuola per dedicarsi all'imprenditoria. Anna era scettica. Che tipo di uomo d'affari è? Un uomo d'affari è prima di tutto un negoziatore, per il quale non è un peccato imbrogliare qualcun altro. Suo marito non era così, troppo onesto. Ciò nonostante, Jay si dedicò al commercio, acquistò altri speculatori e li vendette al mercato, dove aveva affittato un piccolo spazio. File di jeans, felpe, scarpe da ginnastica. Sembrava andare bene, ma c'era ancora qualcosa che turbava il cuore di Anna. Jay stava facendo affari con le persone sbagliate. Voglio dire, aveva preso in prestito dei soldi per la merce. Ma cosa si può fare? Questi sono tempi strani. Quelli che ieri erano dietro le sbarre ora guidano auto straniere. Anna guardò tristemente il cielo, ma c'erano solo nuvole che galleggiavano da qualche parte. Anna sospirò e si scosse interiormente. Perché essere nervosi? Lasciare che le cose vadano come sono. Dopotutto, lei e Jay non avevano altra scelta. Avevano bisogno di soldi e la scuola non aveva pagato i loro stipendi per il terzo mese, solo promesse. E non puoi spiegarlo a tua figlia e a tuo figlio. I bambini dovevano essere cresciuti. Anna sorrise al pensiero dei suoi figli e poi sospirò pesantemente. Aveva dei buoni figli, Caterina di sei anni e William di sette. L'anno prossimo Caterina andrà a scuola e ci saranno nuove spese. Ma non è questo il problema. Il problema è che William ha bisogno di un'operazione. Ha un difetto cardiaco. I medici hanno detto onestamente che un'operazione del genere deve essere pagata. Un sacco di soldi. E non ci sono soldi. Questo è stato probabilmente il motivo principale per cui Jay, un giovane insegnante di talento, ha lasciato il suo lavoro a scuola. Aveva bisogno di guadagnare per l'operazione di suo figlio. Anna raggiunse la scuola, cercò di sorridere e si scrollò mentalmente di dosso tutte le preoccupazioni. Nessuno doveva vedere la sua tristezza. Tutto sarebbe andato bene. Era destino che andasse così. In sala professori c'era un'accesa discussione. Anna salutò, si tolse il cappotto, si sistemò i capelli allo specchio e ascoltò i discorsi degli insegnanti. È questo il Michael. La signora Rebecca, la più anziana delle insegnanti, che insegnava letteratura nella scuola, sussultò. È un gangster, ecco cos'è. Ricordo che era in seconda media quando ruppe la finestra della mia classe. E non per caso, di proposito, perché gli avevo dato una F per un tema imbrogliato. Ci ha pensato lui. Ha copiato la prefazione del libro di testo. Pensava che non avrei capito. E poi l'ha bruciata nel cesso. La signora Rebecca. La signora Lana, la direttrice, interruppe le reminiscenze della collega. Quello che è successo è successo. È ora di lasciar perdere. Il signor Michael è un uomo rispettato, un uomo d'affari della capitale. Credo che quest'uomo onorevole sia stato in prigione diverse volte. Il signor Nicola, l'insegnante di educazione fisica, ha inserito la sua frase. E, come sembra, per rapina, tra le altre cose. E cosa? La signora Lana si è preoccupata. Non ci riguarda affatto. Tutti possono sbagliare. Soprattutto perché ora Michael si è candidato a una carica superiore. E si è ricordato della sua scuola ed è pronto ad aiutarci. Senza alcun costo per noi. Ma... Rebecca sospirò. Non spaventarmi. La signora Lana alzò la voce. Domani dobbiamo incontrare Michael. Dobbiamo prepararci. Signora Anna, lei è della terza media B, vero? Io sono quella figa. Anna era confusa. Beh, è fantastico. Sono i ragazzi più artistici della scuola. Oggi preparate una piccola attività per festeggiare l'arrivo del nostro ospite d'onore. Tutto questo è fantastico. Anna scrollò le spalle. Ma non riesco a capire chi stiamo onorando. Il signor Michael. Un nostro ex studente ha offerto il suo aiuto finanziario per rinnovare la palestra. Domani gli renderemo omaggio. I vostri ragazzi reciteranno un paio di poesie sui meravigliosi anni del liceo. Canteranno una o due canzoni. E poi risolverò tutti i problemi con Michael, faccia a faccia. Il preside diede rapidamente istruzioni ad Anna. Lei si limitò ad annuire. Non è possibile. Non conosceva Michael. Non lavorava a scuola da molto tempo. E le cose del passato non la guardavano. I tempi erano così, ormai. Quel giorno Anna rimase a scuola fino a tardi. Prima le lezioni, poi le prove con i ragazzi per un evento inaspettato. Poi c'era una riunione degli insegnanti non programmata. Una sorta di briefing prima dell'incontro con il caro ospite. Tutti sono partiti all'imbrunire. Era un bandito ed è ancora un bandito. Ricorderai la mia parola. Rebecca sussurrò ad Anna quando raggiunsero il portico. Non si può dire chi sia un bandito e chi un eroe, ora. Anna sorrise tristemente. Era un bene che Jay fosse uscito prima quel giorno e potesse andare a prendere i bambini all'asilo. Ma comunque Anna aveva fretta di tornare a casa. Doveva ancora preparare la cena. Ma nel corridoio fu accolta dal profumo di qualcosa di delizioso. Ciao, moglie! Jay uscì dalla cucina. Mettete le mani in tavola. Ho fatto un arrosto di maiale. Oh, dove l'hai preso? Anna era sorpresa. Al negozio siamo un po' l'ha accorto di carne di maiale. Ho barattato, ha spiegato Jay ridendo. Un uomo del villaggio si è fermato al mercato per scegliere i jeans per suo figlio e poi si è offerto di ripagarmi con la carne. Anche lui veniva dal mercato. Non gli era rimasto molto. Così ho detto di sì. Perché no? Possiamo concederci un regalo ogni tanto? Sì, certo. Anna sospirò. Ma abbiamo più bisogno di soldi. Ti ricordi l'operazione, vero? Anna, rilassati. Jay le mise un braccio intorno alle spalle e le baciò la guancia. Prometto di risparmiare per l'operazione di mio figlio entro la primavera e un pezzo di carne non gli farà male. È una buona cosa se mangia. Sai che è un mangione? Anna a nuit. Certo che lo so. William aveva un pessimo appetito. All'asilo non mangiava bene. Si potrebbe pensare che suo figlio non dovrebbe proprio andare all'asilo. Ma chi può lasciarlo? Per fortuna, la responsabile dell'asilo ha fatto un'eccezione e ha portato William nel gruppo. Mentre Anna e Jay chiacchieravano in corridoio, i bambini erano già seduti obbedienti al tavolo della cucina. Anche loro sembravano rapiti dagli aromi della cena imminente. E in effetti tutti mangiarono con grande piacere. Poi si prepararono per andare a letto. Anna sentì sua figlia a canticchiare una canzone. L'avevano imparata all'asilo? Chiese Anna con un sorriso. E per Capodanno ci sarà una scenetta. Infilandosi il pigiama, Caterina rispose e ricominciò a cantare. Sono pronta a gettarmi nell'oceano. Sono pronta a scalare il vulcano senza paura. Non ho paura di nessuna bestia. Ma ho paura di essere una sorella. Ed è ora di dirlo apertamente. Cos'è un fratellino? È peggio di una conchiglia. È una canzone divertente. Anna sorrise di nuovo. Ma non su te e William. William è oro. Caterina confermò. È una canzone divertente. È divertente. William grugnì da sotto la coperta. Cantala ancora. E Caterina cantò. E William ripetè dopo di lei. Anna lasciò i bambini. Lascia che si divertano un po', è quello di cui hanno bisogno. Presto furono tranquilli, addormentati. Anna e Jay erano in cucina a calcolare quanto avevano ancora da risparmiare per l'operazione di William. Dovrebbe essere fatta entro la primavera. La mattina dopo la famiglia si sparpagliò ai propri posti, i bambini in giardino e gli adulti al lavoro. Dopo la quinta lezione a scuola, tutti si preparavano all'incontro con il patrono Michael, che minacciava di ristrutturare la palestra. La direttrice era la più preoccupata, così diede a tutti gli stessi compiti più volte. Il corpo docente era diviso. Alcuni erano anche eccitati per l'imminente visita dell'alto ospite, altri erano molto calmi, persino indifferenti. Ma i bambini erano sinceramente eccitati per l'evento imminente. Soprattutto gli alunni più grandi, che erano stati fatti uscire dalla sesta lezione. Ben presto una jeep scura si avvicinò alla scuola. Da essa uscì un uomo enorme di 35 anni. Era lo stesso Michael, un ex bullo, un delinquente, come disse Rebecca. E non era lontana dalla verità. Anche con un'occhiata superficiale a questo eroe, era chiaro che aveva una certa dimestichezza con il crimine. Michael fu accolto calorosamente nel portico della scuola dalla signora Lana. Poi c'è stato un evento, i ragazzi di Anna si sono comportati bene. In seguito, nella sala insegnanti, la direttrice presentò gli insegnanti. Alcuni di loro Michael li riconobbe, ad esempio la signora Rebecca. La salutarono piuttosto seccamente. Anna, invece, ricevette uno sguardo predatorio da Michael. «Che insegnanti affascinanti abbiamo ora nella nostra scuola!» Sorrise ampiamente alla giovane donna. Anna non sapeva cosa dire, ma annui. Poi la signora Lana portò Michael nel suo ufficio per una conversazione riservata sulla ristrutturazione della palestra. Si ritirò in classe e si sedette a controllare i quaderni finché il tempo lo permise. Tra un paio d'odore sarebbe andata a prendere suo figlio e sua figlia all'asilo. All'improvviso, zia Velma, il tecnico, entrò in classe e disse che aveva una telefonata urgente dall'asilo, spiegò. Anna, scartando tutto, corse nella stanza dell'insegnante. Quello che sentì al telefono fu orribile. Dopo pranzo, William si era sentito male e stava soffocando. Era stato portato in ambulanza all'ospedale cittadino. In preda all'eccitazione, la giovane donna corse fuori dalla scuola, abbottonandosi mentre andava. Già il cancello si imbatte letteralmente in Michael, che stava fumando e guardava pensieroso la scuola, apparentemente ricordando il passato. «Mi dispiace», arrossi Anna e cercò di evitare l'uomo. «E dove andiamo così di fretta?» Lui sorrise. «A mio figlio, che è stato portato in ospedale», confessò Anna, quasi piangendo. «Wow!» esclamò Michael. «Quanti anni ha?» «Sei anni». Anna si inghiozzò. «Allora lascia che ti dia un passaggio», suggerì Michael. Anna, un po' confusa, alla fine accettò. Non sapeva quanto tempo aspettare l'unico autobus che passava nel loro quartiere. In macchina, non capendo perché, raccontò all'ospite della capitale la storia di suo figlio, di come due anni fa avesse diagnosticato l'operazione. «Ora tutto è deciso dai soldi». Michael scosse la testa. «Mi dispiace per suo figlio, ma in qualche modo sono sicuro che tutto si risolverà. lo spero anch'io. Vorrei solo che non fosse così grave adesso. Non pensare alle cose brutte». Michael cercò di confortarla. E in qualche modo in quei momenti non sembrava un gangster. Era un uomo normale. «E il suo passato?» «Non importa». Fuori dall'ospedale, Michael chiese il numero di telefono di casa di Anna. Lei non si preoccupò nemmeno di chiedere il perché. Le sembrava di fare la cosa giusta. Sembrava che il visitatore della capitale lo chiedesse per un motivo. Forse voleva aiutarla. È per questo che la somma di denaro di cui lei aveva bisogno era per lui? I soldi per l'operazione sono solo centesimi per lui. Dal pronto soccorso, Anna fu invitata nel reparto di degenza. Indossò una vestaglia e si precipitò su per le scale. Sul pianerottolo si trovava un medico familiare. Aveva visto William prima. «Signor Arthur, che cosa William?» Anna si precipitò da lui. «L'ha visitato?» «Sì, e anche il mio collega. Il medico ha sospirato. Abbiamo eliminato le crisi di soffocamento. Ora sta dormendo, ma la situazione si sta facendo seria. Dobbiamo operarlo il prima possibile». «Ma perché? Qual è stata la causa? È stata la carne di maiale?» Anna ha avuto un sussulto. «William ha mangiato molto ieri sera». «Non credo sia questo». Il dottore scosse la testa. È solo che il ragazzo sta crescendo e il suo cuore non riesce a sopportare lo sforzo. L'operazione dovrebbe essere fatta entro un mese. «Cercate i soldi. E faremo una richiesta alla capitale. È lì che andrete per l'operazione». Il medico partì per l'ospedale e Anna si accasciò esausta contro il muro vicino alle scale. «Dove può trovare i soldi?» Dopotutto, era solo novembre e lei e suo marito avevano pianificato di risparmiare entro aprile o maggio. La sera lei e il marito si interrogarono su dove trovare i soldi. «Che ne dite di chiedere al nostro mecenate della scuola?» Anna improvvisamente si ricordò e parlò di Michael. «Non credo che sia una buona idea». Jay esitava. «Persone come quelle non fanno nulla». «Allora fallo tu!» gridò Anna. «Sei un uomo!» Jay ondeggiò come se fosse stato schiaffeggiato. «È un uomo, fa quello che può, dimenticando il suo orgoglio e la sua istruzione superiore. È al mercato con i venditori ambulanti, in giro per le merci, ma i soldi non cadono dal cielo, per quanto si sforzi». «Mi dispiace, mi dispiace!» Anna tornò in sé e si strinse al marito. «Ce la faremo!» «Troveremo una soluzione!» Jay non disse nulla. Strinse più forte a sé la moglie. Dopo aver messo a letto Caterina, Anna non riuscì a trattenere le lacrime. Quando pensava a suo figlio, le si stringeva il cuore. «Come fa ad essere lì, ora, il suo piccolo?» La figlia, vedendo le condizioni della madre, era spaventata e silenziosa. Anche lei sapeva che suo fratello era nei guai. E quando Anna la baciò e stava per andarsene, sussurrò dolcemente. «Mamma! William sta per morire? Cosa stai facendo, tesoro!» Anna si precipitò da lei e, trattenendo a stento le lacrime, sussurrò con forza. «No, no! Lo cureremo, lo cureremo!» «Gli fa più male il cuore?» chiese ingenuamente la figlia. «Sì, e il mio cuore non lo aiuterà!» Anna si morse dolorosamente il labbro per non piangere. «Di che cosa stai parlando?» «È il tuo cuore!» «Cosa farai senza?» «Come farò senza mio fratello?» «Tesoro mio! Tesoro mio! Non preoccuparti! William guarirà! Tornerà da noi!» Anna sussurrò molte parole alla figlia finché questa non si addormentò. Lasciò l'asilo nido con le gambe intorpidite. «Se Michael chiama, chiederò aiuto direttamente a lui!» Disse con fermezza al marito. Jay chiuse solo gli occhi, poi annui in segno di assenso. Forse questo Michael non è un uomo cattivo, dopo tutto. Il giorno successivo a scuola passò come una macchia per Anna. I suoi colleghi continuavano a parlare della visita dell'ospite e della sua promessa. Lei pensava alla sua e aspettava che Michael passasse nell'ufficio del preside. In quel momento lo avrebbe avvicinato, ma lui non venne mai. Doveva avere altro da fare. La sera Anna era appena rientrata a casa quando il telefono squillò nel corridoio. La donna si precipitò al telefono. Era Michael. «Anna, ciao! Chiamo per sapere come sta suo figlio!» chiese Michael. E Anna scoppiò in lacrime, dicendoglielo. «Michael, puoi prestare a me e a mio marito il denaro di cui abbiamo bisogno?» Anna osò finalmente chiedere. «Te li restituiremo entro la primavera». «Non tu e tuo marito», rispose Michael dopo un attimo di riflessione. «Ma per lei personalmente, sì». «Non so quale sia la differenza». «Lei borbottò». «È solo una piccola cosa». «È solo che mi devi un favore personale». «Va bene, lo farò». Senza pensarci, Anna rispose. «Solo il denaro è urgente». «Dove posso lasciarla?» chiese Michael con fare affaristico. Anna diede il suo indirizzo. Ben presto una jeep familiare si fermò davanti alla casa. Anna, preoccupata, era già in piedi nel vialetto. «Andiamo nell'appartamento?» chiese. «No, andiamo in macchina». Michael aprì la porta, invitando Anna a entrare. In macchina le consegnò una busta. Quando la donna guardò all'interno, era imbarazzata. «È più di quanto le serve». «Abbiamo una frazione dell'importo. Prenda tutto. Ne avrà sicuramente bisogno nella capitale. Dovrai vivere anche lì». Michael rispose. «Grazie». Anna annui con gratitudine. «Non esitare, ti restituiremo tutto. Sono sicuro che lo faremo». Michael fece un sorriso sgradevole. «Tutti mi ripagano». Per qualche motivo quella frase fece venire i brividi ad Anna. Ma cercò di ignorarla. Sì, Michael era un tipo strano. Ma l'importante è che abbia aiutato. E il tempo mostrerà cosa fare. L'importante era che ora William potesse essere salvato. Lo ringraziò di nuovo e scese dall'auto. In quel momento Jay stava parcheggiando la loro vecchia auto nel vialetto. Anna aspettava il marito. Anche la jeep non aveva fretta di partire, come se la donna fosse osservata. Alla fine Jay spense il motore e scese dall'auto. Baciò la moglie ed entrarono nel vialetto. Sul retro si fissavano. «Chi era quello?» chiese Jay uscendo. Aveva visto sua moglie scendere dalla jeep. Jay era Michael. Disse Anna eccitata. «Ci ha dato abbastanza soldi per pagare l'operazione, le medicine e per vivere nella capitale mentre William è in ospedale». Jay non disse nulla, ma sospirò. «Sì, quel denaro era la salvezza di suo figlio. Oggi non era riuscito a trovare l'intera somma. Era andato anche dai gangster locali. Non glieli avrebbero dati, sostenendo che erano ancora dovuti da ieri sera». Jay tornò a casa con il cuore pesante. E poi arriva sua moglie con la notizia. «Pensavo che avrebbe dovuto essere felice, ma era inquietante. E poi l'ansia è sparita. William veniva preparato per il trasporto nella capitale. Anna e Jay continuavano a correre in ospedale per vedere il figlio. E poi, finalmente, tutto era pronto. Prendendo un congedo senza stipendio nel bel mezzo dell'anno scolastico, ignorando il disappunto del preside, Anna e suo figlio si recarono nella capitale per essere curati. E Jay e Caterina rimasero ad aspettarli. A Washington, nonostante i tempi difficili, c'era una clinica disposta a operare William. Il ragazzo fu ricoverato in ospedale. Anna affittò una stanza vicino all'ospedale e solo allora capì. Michael aveva fatto bene a darle più soldi di quelli che aveva chiesto. Durante il periodo trascorso nella capitale li avevano spesi quasi tutti per le medicine del figlio, per l'affitto, per i semplici generi alimentari. Per quasi tre mesi Anna era stata in cura con William. Jay aveva provato più volte a far loro visita. Ma per chi avrebbe lasciato Caterina? Hanno deciso di sopportare la separazione perché tutto andava bene. La famiglia si riunirà sicuramente presto. Anna e William sono tornati nella loro città natale solo alla fine di febbraio. Ora il bambino è in perfetta salute. Caterina ha sentito la mancanza del fratello e della mamma, ma non li ha lasciati letteralmente. Sei il mio miglior fratello! Disse la ragazza, abbracciando il fratello. Ti voglio bene. E io voglio bene a te. E anche a mamma e papà! Confessò il ragazzo. Caterina, canta una canzone su tuo fratello. È brutta. Caterina la salutò con un cenno del capo. Perché? Alla ragazza non piace suo fratello. No, non così. Lei lo ama. Canta. Va bene. E Caterina fu coinvolta. Sono pronta a gettarmi nell'oceano. Sono pronto a scalare un vulcano senza paura. E William riprendeva il coro. Cantavano, ridevano, si abbracciavano. Anna e Jay ammiravano in silenzio i loro figli. Quanto era bello essersi lasciati alle spalle la prova. E nessuno aveva idea che tutte le prove della loro vita erano appena iniziate. Anna doveva finalmente lasciare il lavoro. Finché William non si fosse ripreso completamente dall'operazione, non gli sarebbe stato permesso di fare nulla di impegnativo. Jay convince la moglie che poteva far fronte da solo alle difficoltà finanziarie. Il suo commercio si stava lentamente ma inesorabilmente risollevando. Aveva già acquistato un piccolo container e vi commerciava. Un paio di volte si è persino recato da solo in Turchia per ritirare la merce. Anna arriverà un momento in cui non avremo più bisogno di nulla. Disse sorridendo. Anna annui, ma un pensiero la turbò. Non avevano ancora pagato il loro debito con Michael. Ma Jay la rassicurò. Ne aveva già messo da parte una parte, quindi avrebbero dovuto essere in grado di saldarlo entro l'estate. Soprattutto perché Michael non si era fatto vedere. Era andato nella capitale e alla fine dell'anno scolastico sarebbe dovuto comparire in città. In quel periodo era prevista la ristrutturazione della palestra. Anna ne era a conoscenza grazie ad alcuni ex colleghi. La loro direttrice convinse l'imprenditore della capitale. A quel punto Anna e Jay pensarono di riscuotere l'intera somma che Michael aveva dato per il trattamento. Anna si rilassò un po', la casa e improvvisamente capì. È meraviglioso essere una casalinga. No, c'è molto di cui occuparsi. Ma non devi correre da nessuna parte, non devi avere fretta e i bambini sono vicini. Jay è un uomo buono, che fa tutto il possibile per assicurarsi che la loro famiglia non abbia bisogno di nulla. Nonostante i tempi difficili, avevano cibo e vestiti. In generale, hanno affrontato tutto. Ma Anna non aveva intenzione di stare con il marito in braccio. Aveva intenzione di tornare a scuola nel nuovo anno scolastico. Almeno questo era l'accordo con la preside, la signora Lana. E poi arrivò la primavera, seguita dall'estate. Un giorno Anna ricevette una telefonata dalla scuola che la invitava a presentarsi. La donna decise che la conversazione avrebbe riguardato la sua integrazione. Così, prendendo i suoi documenti e lasciando il figlio alla vicina, si precipitò a scuola. Al cancello della scuola, Anna vide una jeep familiare. Per qualche motivo, il suo cuore ebbe una fitta d'ansia. Ma la donna cercò di ignorare il presentimento. Si avvicinò con coraggio all'auto, la portiera posteriore si aprì e Michael si affacciò. Buon pomeriggio, Anna. Ti stavo aspettando. Michael sorrise con i suoi denti d'oro. Sali in macchina. Stiamo parlando. Ciao, Michael. Anna Annui. Anche se solo per poco. Mi stanno aspettando a scuola. Sono stata io a chiedere al preside di chiamarti. L'hai fatto? Anna rimase sorpresa e poi capì. Oh, sì. Non si preoccupi, non mi sono dimenticata del debito. Io e mio marito abbiamo quasi sistemato tutto. Suo marito? Michael sorrise. Sali. Anna salì timidamente in macchina. Michael era seduto sul sedile posteriore e guardava Anna. L'autista la stava fissando nello specchietto. La donna ebbe un brivido di presagio. Michael, grazie mille. Iniziò la sua prima conversazione. Se non fosse stato per te, non so come sarebbe finita. Come sta suo figlio? Chiese Michael. Sta bene, ora è perfettamente in salute. È un bene. bene. Sì, lo è, intendevo il debito. Anna si affrettò a spiegare. Abbiamo già risparmiato quasi tutto. Non è rimasto molto. Lasciate che vi dia solo quello che ho adesso. Il resto tra circa due mesi. Ok, annui Michael. Sapevi che l'importo era aumentato? Cosa vuol dire che è aumentato? Anna era confusa. Non lo so. Sono prima di tutto un uomo d'affari. Il denaro deve funzionare. Quindi ora è raddoppiato. Con gli interessi. Ma lei non ha detto nulla in quel momento. Anna sussurrò con orrore. Non abbiamo certo tutti quei soldi e quando mai li metteremo insieme. Ma non preoccuparti, lo faremo. Io troverò un lavoro. Jay risparmierà. Jay risparmierà. Michael rideva. Hai preso la persona sbagliata, tesoro. Fai un accordo con me. Cosa intendi per negoziare? Anna arrossì. Hai capito tutto. Il debito è sacro. E poi ho un sacco di mecenati da investire qui. A giorni inizieranno i lavori di ristrutturazione della palestra. Quindi gli interessi, gli interessi. Li pagherai. Come? Chiese Anna a bassa voce. Oh, mio Dio! Sei così stupida! Michael Rice, poi quasi grugnendo per l'attesa, disse. Lo ripagherai con il tuo corpo. Se mi piace, ti condonerò il resto del debito. Mi chiami? Le porse un biglietto da visita. Come hai potuto? Anna esclamò e saltò fuori dall'auto. Non succederà mai! Ti daremo tutto! Se sei così coraggiosa! Michael scese dall'auto e guardò la donna in modo predatorio. Be', giusto perché tu lo sappia. Aspetterò due giorni. Poi dovrai restituire tutto, sia il debito che gli interessi. Se non lo fa, se ne pentirà. Sbatte la portiera dell'auto. Il motore rughi e l'auto sfrecciò via. Anna rimase in piedi sul marciapiede, confusa e depressa. La donna guardò il biglietto da visita. Voleva gettarlo via, ma per qualche motivo mise la borsetta nella sua borsa. La signora Lana apparve dai cancelli della scuola. Vide la sua ex collega e si avvicinò. Sei già qui? Chiese eccitata. Ehi, signor Michael! Mi ha chiesto di organizzarle un incontro. Oh, signora Anna, ha messo in imbarazzo l'uomo d'affari della capitale. Credo che gli abbia fatto perdere la testa. Perdere cosa? Fece eco Anna, pensando a altro. La testa. Lana Rice. Tu, cara, non perdi la testa. Capisco che un insegnante sia un modello di comportamento e tutto il resto. Ma i tempi sono diversi, devi rendertene conto. E quando un uomo rispettabile mostra segni di attenzione, non dovresti rifiutarli. Signora Lana, posso riavere il mio lavoro? Ignorando le parole della direttrice? Chiese Anna. Lo farò. Annui. Ma il punto è questo. Il signor Michael mi ha chiesto di sospendere il suo impiego per un po' e il signor Michael. Anna sorrise ironicamente. Chi diavolo è? Perché stai ascoltando un gangster? Non è un delinquente. La direttrice rispose scuotendo la testa. È un uomo d'affari e il nostro sponsor. Non si buttano via persone del genere. In generale, risolvete tutte le vostre questioni con Michael e poi venite a lavorare. Con questo, Lana se ne andò. Anna rimase davanti al cancello della scuola, confusa. Quella sera raccontò tutto al marito. Jay ascoltò e divenne sempre più cupo e silenzioso. Anche Anna era silenziosa. E così fu. Alla fine Jay disse. Non parlargli più. D'ora in poi mi occuperò io di questo problema. Jay, ma come? Dove troverai tutti quei soldi? Ci ho pensato. Forse potremmo vendere l'appartamento. Dove andremo a vivere? Inoltre, mia nonna me l'ha lasciato. È vecchio, non ci daranno molto per questo. Non abbastanza per il debito. Disse Jay, pensando a altro. Ho un'opzione. La proverò domani. Andrai di nuovo dai banditi? Non dai banditi, ma dai miei creditori. Inoltre, Nixon è una persona per bene, capirà. Credo che mi aiuterà. Anna si limitava a tenere la testa bassa. Dio, quanti debiti stavano per contrarre. Era come se un abisso si fosse aperto davanti a loro e li stesse tirando giù. Li tirava giù. Il giorno dopo, Jay andò dall'oligarca locale, Nixon. Sì, Jay era già in debito con lui, ma sperava che Nixon avrebbe capito. Questi lo ascoltò, esitò e scosse la testa. Non è niente di personale, Jay. Disse Nixon. Ma mi devi già abbastanza. Ti ripagherò. So che lo farai. Sei un uomo onesto, fai un buon lavoro. Ma non è questo il punto. Sono venuti qui e mi hanno detto di non darti un altro centesimo. Sono persone molto serie e non ho intenzione di mettermi contro di loro. Sono gli uomini di Michael? Jay ha tirato a indovinare. Nixon non disse nulla. Si limitò ad annuire in risposta. Jay se ne andò senza nulla. Nell'animo di quell'uomo infuriava una tempesta. No, capiva che i debiti dovevano essere ripagati. Sì, era disposto a pagare. Ma poteva essere messo sotto pressione in questo modo? Jay capì la vera ragione del comportamento di Michael. Voleva sua moglie, un altro giocattolo. E il solo pensiero lo rendeva furioso. Non avrebbe permesso che la sua donna venisse ferita. Avrebbe fatto a pezzi il treno, ma avrebbe trovato una via d'uscita. Magari facendo un discorso da uomo a uomo proprio con questo Michael? Jay decise che era la cosa giusta da fare. L'aveva già caricata di un bel po' di problemi. Non è giusto. Avendo appreso da fonti attendibili che Michael viveva in una villa in affitto alla periferia della città, Jay vi si recò. Dopo aver spiegato alla guardia al cancello chi voleva vedere, Jay aspettò pazientemente. Nella sua testa c'erano molte frasi che avrebbe voluto sbattere in faccia al porco. Ma l'uomo capì che doveva stare più attento, che doveva fare un patto, quindi non avrebbe imprecato. Il cancello si aprì e la guardia si affacciò. Entrate. Disse brevemente. Jay lo seguì obbediente. C'era un enorme maiale seduto su una sedia di vimini fuori dalla casa. Un uomo della stessa età di Jay. L'aveva visto solo una volta, ma lo riconobbe subito e sì, era Michael. Quello cattivo. Jay lo capì subito. Ma dobbiamo fare un accordo. Cosa sei venuto a chiedere? Chiese Michael con un sorriso, sorseggiando da una piccola tazza di caffè. Sono venuto a saldare un debito. Gli rispose Jay. Risolvere cosa? Ho detto tutto alla tua Anna. Non è niente di che. Fidati, le piacerà. Jay si infiammò a quel punto, stringendo i pugni. Riuscì a malapena a non scagliarsi contro Michael. È disgustoso. Disse a bassa voce. Per te non è un problema così grande. Non contare i miei soldi. Michael sorrise di nuovo. Che razza di gente. Non riescono a fare nulla per se stessi. Vogliono guardare nei portafogli degli altri. Vi darò i soldi, ma datemi tempo e lasciate in pace mia moglie. Cercando di sembrare calmo, Jay rispose. Non l'ho ancora toccata. Michael Rice. Mi piacerebbe provarci, però. È una piccola cosa sexy quella che hai in mente. Condividila. Non le costerà nulla. Sarà un bene per tutti noi. Quando Jay lo sentì, si svegliò come se fosse stato colpito. Non riusciva più a controllarsi. Feccia! Gridò e si scagliò contro Michael con i pugni. Ma arrivarono due guardie di Michael, più una terza che era al cancello. Così radunarono Jay e cominciarono a picchiarlo metodicamente. Lo picchiarono brutalmente, con tutte le loro forze. E Michael guardava e beveva il suo caffè. Va bene, basta così. A un certo punto disse. Morirà. Portatelo fuori e gettatelo via. Jay, appena vivo, fu gettato nel bagagliaio della jeep e portato via dalla tenuta. Scaricato in un parco. Lasciato lì. Alcuni passanti trovarono Jay e chiamarono un'ambulanza. L'uomo è stato portato in ospedale. Per fortuna hanno trovato una patente di guida nella sua tasca. È così che la polizia è riuscita a identificarlo. È stato allora che hanno chiamato Anna. Quella sera era distrutta. Jay avrebbe dovuto essere già a casa, ma non c'era ancora. La figlia e il figlio andarono in silenzio nella loro stanza, come avrebbero dovuto, rendendosi conto che era meglio non disturbare la mamma ora. Si sedettero nella loro stanza a disegnare. Anna si affacciò alla finestra e aspettò. La telefonata giunse inaspettata e persino la sua testa ebbe un sussulto. Anna si precipitò all'apparecchio. Quello che sentì la sconvolse. Jay era in ospedale in gravi condizioni. La donna si accasciò a terra, incapace di ricomporsi. Devo andare in ospedale, scoprire tutto, ma non riesco a camminare. Mamma, stai male? Caterina guardò fuori dalla cameretta. Posso darti una pillola? O dell'acqua? William si affacciò da dietro le sue spalle. Sì, acqua, figliolo, portala. Anna parlò a malapena. Sonny corse in cucina e poi, sorseggiando dal bicchiere di Anna, tornò lentamente in sé. Perché era così sconvolta? L'importante era che Jay fosse vivo. Anna si alzò e abbracciò i bambini. Potete stare da soli, cari? Chiese. Certo. Caterina a noi. Ora siamo grandi. Bene. Vado. Non ci metterò molto. Tu vai a letto. Mamma. William la chiamò sulla soglia di casa. Dove papà? È stato trattenuto. Vai a letto. Anna rispose. È stato sbagliato dire ai bambini del problema. Sono ancora giovani. All'ospedale, Anna ricevette un altro colpo. Sì, Jay era vivo, ma le sue condizioni non erano gravi, erano critiche. Fu fatto un intervento chirurgico, ma non servia molto. Anna ascoltò il medico e capì che stava perdendo Jay. Posso vederlo? Implorò. No, non puoi. Il medico sospirò. È in terapia intensiva. Poi guardò la donna pallida e sospirò. Va bene, entriamo. Jay giaceva tutto fasciato, coperto di tubi e fili. Il cuore di Anna si fece sentire. Oh, mio caro, mio caro. Si inginocchiò accanto al letto, sussurrando. Tieni duro? Sono con te, sono con te. Supereremo tutto questo. Piangeva, pregando Dio che accadesse un miracolo. Il suo cuore era a pezzi. Se solo potesse fare qualcosa per aiutare. Ma cosa? Il medico le toccò la spalla, dicendole che era ora di andare. Uscendo barcollando dal reparto di terapia intensiva, scese le scale del pronto soccorso. Per quanto tempo Anna rimase seduta in quel modo, non lo ricordava. All'improvviso vide il medico del reparto di terapia intensiva in piedi accanto a lei. Cosa? disse spaventata. Mi dispiace. Il medico disse a bassa voce. Suo marito è morto. Anna urlò forte. Un'infermiera si precipitò a prendere un sedativo. L'infermiera le mise un braccio intorno alle spalle, sussurrandole qualcosa di calmante. Ma come poteva calmarsi quando il mondo stava crollando? Anna tornò a casa al mattino. Lo stesso medico l'accompagnò a casa. Tieni duro. Le disse addio. Hai dei figli? Ora devi essere due volte più forte. Il doppio. Anna lo disse di nuovo. La parola riecheggiava dentro di noi, come in un vuoto. I bambini dormivano accoccolati nello stesso letto. Anna rimase in piedi sulla porta, guardando i suoi bambini. Come avrebbe fatto a dire loro che il papà non c'era più? Che paura! Andò in cucina e si sedette stancamente su uno sgabello. Non riusciva a credere che Jay non sarebbe più entrato nel loro appartamento, non avrebbe più sorriso, non avrebbe più abbracciato, non avrebbe più preparato la sua deliziosa tisana che solo lui sapeva fare. Ma cosa era successo? Anna non riusciva a capire chi avesse fatto questo a suo marito. La polizia aveva promesso di indagare sulla questione e di trovare i colpevoli. Ma ci riusciranno? Erano tempi difficili. Anna aveva dimenticato i suoi problemi passati. Il dolore la opprimeva. Al mattino trovò la forza di dire ai bambini che il papà era in cielo. Catherine e William piansero. Anche Anna pianse. C'era l'ignoto davanti a noi. Poi c'era il funerale, la veglia funebre. Per fortuna i vicini hanno aiutato. I colleghi del passato avevano seppellito Jay. Dovevamo andare avanti. Ma come? Anna cominciò a riprendersi un po' le ora una domanda la tormentava quando avrebbero trovato i responsabili della morte di Jay. Un giorno, all'inizio di agosto, andò alla polizia per scoprirlo. L'investigatore parlò a lungo del picco di criminalità, delle difficoltà del loro lavoro. Anna attese pazientemente una risposta alla sua domanda. Beh, non so cosa dirle. Alla fine l'investigatore confessò. Non hanno mai trovato testimoni del crimine. Non hanno trovato nemmeno la sua auto. Probabilmente è stato un furto d'auto. Ma l'auto non è un ago. Anna ha sottolineato. Credo che sia stata smontata per ricavarne dei pezzi molto tempo fa. È quello che ha detto il medico legale. Non si preoccupi, stiamo cercando. Se sapremo qualcosa, ve lo faremo sapere. Anna si rese conto che qui non avrebbe ottenuto nulla. Uscì dalla stazione di polizia, si sedette su una panchina e pianse. Come poteva continuare a vivere? Solo ora si ricordò del posto DJ al mercato, della sua merce. Doveva fare qualcosa. Anna andò al mercato delle Pugli. Con sua grande sorpresa, il container DJ stava facendo un buon affare. Solo che Anna non conosceva il venditore, che alzava le spalle e la scansava come una mosca fastidiosa. Anna si ricordò di un marito che conosceva. Ray lavorava lì vicino. Quando vide Anna, abbassò gli occhi e fece tutte le domande al proprietario del mercato. Ed era lo stesso Nixon. Anna lo trovò presto in uno degli edifici amministrativi del mercato. Che cosa voleva? Nixon era sorpreso. Jay deve così tanto che tutta la sua merce a una goccia nell'oceano. Sì, l'ho presa per me. Ma questo non copre i debiti. È davvero bello che tu sia venuto. Decidiamo. Decidere cosa? Chiese Anna a bassa voce. E il debito principale? Chi lo ripagherà? Tu sei l'unico. Quanto? Anna sussurrò. Nixon fece il nome dell'importo. Gli occhi della donna si scurirono quando lo sentì. Non ho così tanto. Rispose mestamente. Ha un appartamento. Lo venda e saremo pari. E io andrò in strada con i bambini? Mi dispiace, ma non è un mio problema. Nixon rispose. Le darò un mese per risolvere la questione. Più tardi. E poi nessun giudizio. È tutto. Ho delle cose da fare. E Nixon indicò la porta. Lei uscì dal mercato, ondeggiando. I passanti la guardarono con giudizio, dicendo che era ubriaca in pieno giorno. Non voleva vivere. E solo il pensiero dei suoi figli la trattenne dal fare il peggio. Anna camminò lungo il marciapiede, senza notare nessuno. Non notò subito la jeep, anche quando rallentò accanto a lei, non ci fece caso. Anna. Michael la chiamò. Che ci fai qui? Ho saputo di Jay. Le mie condoglianze. Anna guardò quell'uomo ben nutrito e soddisfatto e si rese conto con orrore che ora stava per reclamare i suoi debiti. Doveva tutto, doveva tutto. Volevo sdraiarmi e morire. Lascia che ti dia un passaggio. Michael si offrì e allungò la mano. Lei ricambiò la mano. Tornarono a casa in silenzio. Michael la guardava solo di tanto in tanto, pensando a qualcosa. Prima che arrivassero a casa, vide i suoi figli. Stavano giocando nel parco giochi, aspettando la madre. Un sorriso le sfiorò leggermente le labbra. I bambini sono la sua unica valvola di sfogo e la sua forza. Che bei bambini che hai! Osservò Michael. La bambina è così carina. Anna non disse nulla e stava per scendere dall'auto quando Michael la fermò. Dobbiamo parlare. Disse. Non ho niente. Lei rispose condannata. E non verrò da te. Fai di me quello che vuoi. Sì, ma ho bisogno di te adesso? Michael sorrise. Ti sei vista allo specchio ultimamente? Vaffanculo! Rispose stancamente Anna, tirando di nuovo la maniglia della porta. Sfacciato! Michael la fulminò con rabbia. Forse anche Jay voleva essere audace. Ma le sue braccia erano troppo corte. Sentendo quella frase, Anna fu improvvisamente colpita dal pensiero che Michael fosse responsabile della morte di Jay. Sei stato tu a fargli questo? Sussurrò, guardando Michael con orrore. Perché? Vorrei togliermi le mani di dosso. Michael si mise a denti stretti. Ma i miei ragazzi hanno esagerato un po' troppo. È colpa di suo marito. Perché è venuto da me a difendere il tuo onore? Cavaliere dall'armatura scintillante. Mi dirai che sei responsabile della morte di Jay? Andrò alla polizia. Allora vai alla polizia. Chi ti crederà? E non fare l'isterica. Perché sto facendo questa conversazione? Anna fissava il mostro e non riusciva a trovare le parole giuste. Tutto il suo corpo era in preda al terrore. Hai una brava ragazza. Disse Michael, guardando i bambini che giocavano. Non fare del male ai miei figli. Uccidimi, non fare del male ai miei figli. Oh, che maleducazione! Michael sorrise. Nessuno interromperà nessuno. Vi ho parlato di mio marito perché capiate che non si può scherzare con me. Va bene, perdonerò i suoi debiti. Perdonerò il comportamento irrispettoso di suo marito. Ma c'è una condizione. Che cosa vuoi? Anna sussurrò con dolore. Mi darai tua figlia. Come colpita da un tuono, Anna guardò Michael. L'oltraggio della sua offerta era incredibile. Ha solo sette anni. Finalmente riuscì a parlare. Sei fuori di testa? Non osare toccare mia figlia. A cosa stai pensando, idiota? Michael sorrise di nuovo. Questo è diverso. Vedi, io ho una moglie. Bella, ben curata. Ma il problema è che non può darmi alla luce. All'inizio volevamo adottare un bambino, ma è così problematico. Ma recentemente abbiamo pensato che forse dovremmo prendere un bambino più grande. Non voglio stare in un orfanotrofio. Li sono tutti sfigati, figli di alcolisti. Ma questa bambina fa al caso nostro. Che cosa stai dicendo? Rispose Anna sarcastica dopo un po' al disbigottimento. È una bambola del negozio. È una persona viva. È il mio bambino. Era tuo, sarà mio. Pensaci, cosa vuoi dare a una bambina? Non entrerai mai a scuola in questa città. Ci ho pensato io. Morirai di fame da sola. E ti trascini dietro i bambini. All'inizio, però, ho pensato di prendere il ragazzo. Ho investito tanti soldi in lui per niente. Ma mia moglie mi ha convinto a non farlo. Ha detto che non abbiamo bisogno di uno difettoso. Davvero, chi lo sa? E se succedesse altro alla sua salute? Hai una brava ragazza. Vedo che sarà una bellezza. Mai mi hai sentito? Non avrai mai mia figlia. Gridò Anna e saltò fuori dall'auto. Che idiota. L'ho sentito dall'interno dell'auto. Stavo cercando di fare un buon affare. La jeep partì e sfrecciò via. Anna si precipitò al parco giochi, prese i suoi figli, li strinse a sé e pianse. Mamma, cosa stai facendo? Caterina era sorpresa. Non piangere. Sei arrabbiata perché siamo andati al parco giochi da soli? Ma sono grande. Presto andrò a scuola. Posso badare a William. La mia assistente! Esclamò Anna. Non badare a me. Ho solo mal di testa. Andiamo a casa, mamma! Disse William. Ti prepareremo del tè. Venite, cari. A casa, dopo aver messo a letto i bambini, Anna era decisa ad andare alla polizia. Michael aveva praticamente confessato, quindi doveva punire il delinquente. Dovevamo mostrare la sua vera natura. La giustizia lo esigeva. D'accordo, poteva occuparsi di Nixon, ma di Michael. L'unica speranza era la giustizia. E solo allora Anna poteva aspettarsi un lavoro, una vita tranquilla. C'erano i bambini a cui pensare. Caterina inizia la scuola tra tre settimane e non ci sono soldi per le calze. Dimostrerà a tutti che Michael è un criminale e la direttrice capirà quanto si sbagliava. Riuscirà a far reintegrare Anna. Ma non è questo il punto. Ciò che conta ora è punire il marito. Stamattina era già in centrale. L'investigatore che si occupava del caso del marito la ascoltò attentamente e poi le chiese di aspettarlo per un po' ha lasciato l'ufficio. Tornò con Michael. Ora, signora Anna, ripeta tutto quello che mi ha appena detto. Disse il medico legale. Lasciamo che l'onorevole senta da solo quale eresia è stata inventata sul suo conto. Onorevole! Gridò Canna. Siete fuori di testa? È una criminale! È pazza! Michael sorrise con condiscendenza. Probabilmente ti ha parlato di sua figlia, vero? Ha detto che volevo portarla via. Sa, ieri mi ha visto per strada in macchina e si è quasi buttata sotto le ruote. Ho dovuto metterla giù. Ha iniziato a vendermi la sua bambina. Vendere la sua bambina? L'investigatore si accigliò. Le dico che è pazza. Ma non la giudichi con severità. Probabilmente è fuori di testa per il dolore. Michael gli rispose. Anna ha solo cercato di dire qualcosa in sua difesa, ma nessuno l'ha ascoltata. Michael, il medico legale e io abbiamo già discusso sul da farsi. Dobbiamo chiamare un'ambulanza o presentare un caso? Anna capì che doveva scappare. Corse fuori dall'ufficio. L'investigatore le gridò qualcosa dietro. Michael lo fermò, dicendo cosa si può prendere da una povera donna. Non ricordava come Anna fosse finita in strada. Salta su un autobus e torna a casa. Nell'appartamento, abbracciata al figlio e alla figlia, giaceva in silenzio. Non c'erano lacrime. Il suo corpo tremava. Cosa era successo a questo mondo? Il nero era diventato bianco. Il bianco era diventato nero. E non c'era verità da nessuna parte. La sera si calmò un po' e propose ai bambini di fare una passeggiata nel parco. I bambini accettarono volentieri. Caterina e William camminarono davanti, cantichiando la stessa canzone. Anna camminava un po' più indietro. La donna sorrise involontariamente mentre ascoltava i suoi figli. Grazie a Dio i suoi piccoli si erano calmati così in fretta dopo la morte di Jay. A volte di notte sentiva Caterina e William singhiozzare. Ma i ricordi dolorosi li visitano sempre meno spesso. La psiche dei bambini è flessibile, dimentica rapidamente tutto ciò che è negativo e lei deve imparare a dimenticare e a pensare a come continuare a vivere. Anna camminava lungo il sentiero, ammirava le aiuole, guardava i suoi figli e ricordava. Era venuta in questa città per un incarico. Anna è nata nella regione, in un piccolo villaggio. I suoi genitori furono uccisi in un incidente quando lei era al terzo anno. È stato così brutto per lei. E se non fosse stato per Jay, con cui già uscivano, sarebbe stata dura per lei. Si sarebbe laureata? Non lo sa. Ma Jay l'ha sostenuta e confortata. Si sposarono al quinto anno e poi tornarono insieme nella città natale di lui, dove la defunta nonna di Jay aveva lasciato il suo appartamento. Volevano frequentare la prima scuola di Jay, ma non c'erano posti liberi. Così siamo andati alla seconda. Poi i bambini sono nati uno dopo l'altro. Sì, c'era una famiglia, c'era felicità, e all'improvviso tutto è crollato come un castello di carte. Prima la malattia di William, i debiti, la morte di Jay. Anna sospirò pesantemente, ma doveva essere forte per i suoi figli. E il resto della sua vita? Dove cercare lavoro? Michael ha mantenuto la promessa, non la prenderanno da nessuna parte nella sua specialità. Anna ebbe un'idea. Forse potrebbe tornare al suo villaggio. Lì c'era ancora una scuola. Forse ci sarebbe stato un posto per lei. E la casa dei suoi genitori è ancora intatta. Non valeva molto, ma poteva essere abitata se ristrutturata un po'. Mentre Anna camminava lungo il sentiero, si convince sempre più di aver trovato la soluzione giusta. Esattamente. Vendere l'appartamento, pagare Nixon e trasferirsi. Meglio vivere in mezzo al nulla che in un posto dove ogni giorno poteva aspettarsi la cattiveria di Michael. Ma lui avrebbe davvero vissuto così, felice di farla franca? Anna decise che il tempo lo avrebbe detto. Michael risponderà di tutte le sue malefatte. All'improvviso, un minibus colorato si fermò sul sentiero che costeggiava la strada che portava al parco. Due uomini mascherati ne saltarono fuori e si precipitarono verso i bambini di Anna. La donna si bloccò per un attimo, poi urlò contro di loro. Uno di loro gettò abilmente Caterina nella cabina e vi saltò dentro, mentre il secondo uomo si precipitò dietro. Fu superato da Anna. Lei lo afferrò per la manica. Vaffanculo! Gridò e spinse via la donna più forte che poté. Anna cadde sull'erba. William, spaventato, rimase in piedi sul sentiero, guardando la madre e l'auto. Poi il bandito afferrò il ragazzo e gli puntò un coltello. Pollo! Dove stai andando? Disse. È colpa tua! No, non pianse e non implorò di strisciare sulle ginocchia. Lei, una tigre infuriata, si lanciò contro il criminale e gli affondò i denti nel braccio. Lui gridò. Il coltello cadde! Allentò la presa. William si scansò immediatamente e il bandito agitò la mano in cui la donna stava artigliando. Infine, con un duro colpo alla testa, riuscì a disarmarla. Anna cadde di nuovo a terra. Il bandito salì in macchina e se ne andò. Mia figlia! La mia bambina! Anna urlò, cercando di alzarsi in piedi. Non le diedero retta. William era isterico accanto a lei. Anna lo afferrò e lo tenne fermo. Il suo bambino non dovrebbe essere così sconvolto. Non può. E se il suo cuore operato non ce la facesse? William, non piangere, è un gioco. Caterina tornerà subito. La donna borbottò la prima cosa che le venne in mente. Si guardò intorno speranzosa. Forse qualcuno aveva visto quello che era successo? Ma il parco era vuoto. La gente passeggiava qui prima dell'incidente. Ma quando era iniziato il trambusto, all'improvviso tutti erano spariti, prendendo i loro bambini, i loro giocattoli, i loro libri. Ancora una volta, Anna era sola con i suoi problemi. Si alzò a fatica, prese saldamente la mano di William e si diresse verso la stazione di polizia. L'autobus era proprio lì. Ancora lei! Un investigatore familiare la vide all'ingresso. Cosa stai combinando di nuovo? Mi hanno portato via mia figlia. Anna disse lentamente e chiaramente. Sono sicura che è stato il signor Michael. Lei non mi crede, ma è un uomo spaventoso. I suoi uomini hanno appena cercato di fare del male a mio figlio. È impazzito. L'investigatore sorrise e si rivolse all'ufficiale di servizio. Chiamate i medi. Mia figlia mi è stata portata via. Anna alzò la voce. Non mi sente? Sì, posso. L'investigatore rispose irritato. Ora arriveranno i medici, ce ne occuperemo noi. Resta qui, ti chiamo io. E andò al telefono dell'ufficio. Anna capì che stava chiamando Michael. Guardò disperata l'ufficiale di servizio. Il giovane stava fissando la donna. Poi lo vide sussurrarle qualcosa e indicarle la porta. Corri! Si rese conto. E Anna di lato, mentre l'investigatore era impegnato nella conversazione, si allontanò dalla stazione di polizia, tenendo per mano suo figlio. E poi Anna corse, con William già in braccio. Sì, è stata dura, ha inciampato, ma la donna si è resa conto che era comunque più veloce in quel modo, e non poteva usare i mezzi di trasporto ora, avrebbe potuto essere trattenuta. Non poteva nemmeno andare all'appartamento, ma non aveva un altro posto dove andare. Chiuse le porte a chiave e disse a William di rimanere nella sua stanza come un topo. Cominciò a pensare freneticamente a dove avrebbe potuto trovare sua figlia. Il campanello suonò. Era la polizia. Si allontanò cautamente dalla porta e si bloccò, ascoltando. Chiacchierarono tra loro e decisero che sarebbero venuti domani, quando avrebbero avuto un mandato per arrestare la pazza. Se ne andarono. Lei rimase seduta sotto la porta in stato di torpore. Le sembrava di essere in un teatro dell'assurdo. Nessuno cercava di aiutarla, ma solo di farla sembrare estrema. Ma dove era la sua bambina? Anna ricordò, come al rallentatore, gli ultimi momenti in cui aveva visto sua figlia. Il tepista che la gettava in macchina, sua figlia che urlava di paura. Il cuore di Anna sanguinava per l'ignoto. Dove è la sua bambina? Che cosa le è successo? Il telefono squillò. Anna si precipitò a rispondere, ma si fermò. Si sarebbe tradita. Probabilmente è la polizia che la sta cercando. Si accorgeranno che è in casa. Verranno a prenderla con una squadra. E William? Cosa gli succederà? Si sedette di nuovo contro il muro. Il campanello suonò di nuovo. Non sussultò nemmeno. Anna apri. Sono Nixon. Sono sola. Sentì la voce di un uomo. La donna sospirò pesantemente. Era davvero venuto per i debiti? Tutti avevano deciso di farla fuori. Forse era giusto così. Non ce la faceva più. Spalancò la porta. Sì, era Nixon. Da solo. Guardò le scale. Poi spinse Anna nell'appartamento. Entrò lui stesso e chiuse la porta. Fate i bagagli. Disse con voce soffocata. E prendi il ragazzo. Devi scappare. Scappare? Come sarebbe a dire? Dove? Perché? Anna fissò l'uomo confusa. Gli uomini di Michael arriveranno presto. È molto arrabbiato con te. E distruggerà te e il bambino. Caterina? Dove Caterina? Disse la donna in lacrime. Credo che l'abbia presa, ma non ti ho detto nulla. Dovresti saperlo bene. Non combatterò contro Michael. Non ne vale la pena. Allora perché sei qui? Mi vergogno di Jay. Era un bravo uomo. Una brava persona. Voglio fare qualcosa per aiutarvi. Ma mi dispiace, non senza il mio interesse. Ho bisogno che tu scriva un atto di donazione per me, adesso. Oh, ecco! Anna sorrise amaramente. Pensavo che foste sincera. Sono sincera. Sto aiutando te e tuo figlio a lasciare la città. Ma devi capire che questo appartamento mi serve. Vale dei soldi. E non ho dato a Jay i miei. Gli ho dato i soldi della pentola. Come ci aiuterai? Vi porterò nella mia casa di campagna e domani vi faranno dei nuovi documenti. Vi metterò su un treno. E andrete via da qui. Andate in Messico, in Canada, in Siberia, ma lontano da qui. E mia figlia, la mia Caterina? Non posso fare a meno di lei. Anna piangeva. Almeno salvate mio figlio. Non ne avete avuto abbastanza nel parco? Tu sai tutto. Tutti sanno tutto. Ma nessuno dirà una parola in tua difesa. Tutti hanno paura di Michael. Chi diavolo è? Anna singhiozzava. Oh, mio Dio! Ha preso la mia ragazza! Come ha potuto? Non preoccuparti di Caterina. So che lei e sua moglie vogliono una figlia. Non le faranno del male. Ma salva tuo figlio. In qualche modo Nixon convince Anna, che raccolse frettolosamente le sue cose, prese in braccio lo spaventato William e seguì obbediente il suo salvatore, che pure perseguiva il proprio vantaggio. Ma qui abbiamo dovuto scegliere tra due mali, come si suol dire. Nixon non ha imbrogliato. Ha ospitato la sfortunata donna alla Dacia, poi ha chiesto a lei e al figlio i documenti e le ha consegnato i biglietti del treno. La destinazione era una piccola stazione del Canada occidentale. Lontana, ma non li avrebbero trovati lì. Sul treno, Anna chiese il numero di telefono di Nixon. Perché? Si chiese. Dimentica tutto. Non posso. E se si venisse a sapere di Caterina? Se succede, troverò il modo di dirtelo. Esci di qui e prenditi cura di tuo figlio. Assomiglia a Jay. La locomotiva suonò il clacson. Nixon spinse letteralmente Anna e William nella carrozza e il treno partì. Dove Anna stesse correndo e perché? Non riusciva a capirlo. Ma in quel momento non c'era altra scelta. Anna poteva essere imprigionata o rinchiusa in ospedale, incolpata della scomparsa della figlia. Erano in viaggio da circa due giorni. Anna si asciugò le lacrime di tanto per tutto il viaggio. William piangeva spesso. Il ragazzo era spaventato, confuso. Non riusciva a capire cosa fosse successo, perché avessero lasciato il loro appartamento, cosa fosse successo a Caterina. E sentiva ancora chiaramente la lama del coltello sulla gola quando il bandito lo aveva afferrato. Gli altri passeggeri, vedendo la madre e il figlio sconvolti, non fecero domande, non li riguardava. Era un periodo travagliato, difficile, e ognuno aveva i suoi problemi. Al mattino Anna e William scesero finalmente alla stazione. Una piccola stazione, con delle case alle spalle. Era un villaggio di operai. Dove andare? Dove stare? Anna rimase a bocca aperta, poi sentì suonare le campane. Era come se la sua anima fosse stata smossa. Mamma, dove stiamo andando? Chiese timidamente il figlio. Andiamo, William. Credo di saperlo. Disse Anna con sicurezza. Quella mattina la chiesa non era affollata. Il giovane sacerdote Pablo si diresse verso il suo ufficio dopo la funzione. Improvvisamente notò una giovane donna con un bambino. Entrarono timidamente nel tempio. La donna mise il bambino su una panca vicino al muro, comprò una candela dal negozio e si avvicinò all'icona. Qualcosa nel loro aspetto confuse il giovane sacerdote. Avevano un'aria smarrita, come se fossero stati scossi dal sacco in mezzo alle onde. E poi sei da solo. Pablo si avvicinò silenziosamente alla donna e sentì le sue parole rivolte all'icona. Protettrice dei bambini e delle madri. Non chiedo per me, ma aiuta la mia Caterina, ovunque si trovi, e proteggi il mio bambino. Non ho nessun altro a cui chiedere protezione. E le mie forze si stanno esaurendo. Indicatemi la strada. Cosa fare dopo? Dove devo andare? Mi dispiace, non conosco nessuna preghiera e non sono nemmeno battezzato. Beh, non importa. Basta che il mio cuore sia aperto a Dio. Di quante altre prove ho bisogno? Non lo so. Prego solo per una cosa, che i miei figli siano risparmiati. Anna avversa lacrime, mentre il sacerdote sta dietro di lei e solidarizza sinceramente con la povera donna. Era in difficoltà, era evidente. Si girò e fece un sussulto silenzioso quando vide il sacerdote. Mi dispiace di averla messa in imbarazzo. Disse Pablo con voce ferma. Non si arrabbi se ho sentito le sue parole. Forse posso aiutarla? Non credo proprio. Mormorò Anna. Tuttavia, forse può dirmi chi affitta camere nel suo villaggio? Io e mio figlio veniamo da lontano. Non abbiamo nessuno qui. Non so a chi rivolgermi. È stato il tempio a condurmi al tempio. È la cosa giusta da fare. Pablo annui. Quando la tua anima è in subuglio, dovresti rivolgere i tuoi pensieri a Dio. Ma io non sono battezzato. E nemmeno mio figlio. Mi dispiace, deve essere un peccato per noi venire. E tu hai bisogno di un fular. Non mi sono coperto il capo. Non è un peccato. Dio ti ha portato qui. E se non sei battezzato, non è un problema. Se la tua anima è aperta a Dio, lui ti ascolta comunque. E troveremo il fazzoletto. Pablo fece un cenno alla vecchia del negozio, che capì tutto e portò il fazzoletto. Abbiamo corretto il suo errore. Pablo sorrise. Stanco, hai detto? Deve essere stanco. Venga nel mio ufficio. Le preparerò un tè. Ufficio? Anna era sorpresa. Certo che lo siete. Abbiamo la nostra organizzazione e un sacco di scartoffie. Credevi che fosse solo il prete di turno? A dire il vero, sì. Anna ammise. Oh, no, c'è molto da fare. Pablo si avvicinò a William, che stava fissando il prete. Che c'è, ragazzo? Facciamo conoscenza. Sono padre Pablo. Come ti chiami? William. William Robertson. Il ragazzo rispose timidamente. Cronox. Lo corresse Anna, imbarazzata. Il ragazzo guardò un po' al sorpreso la madre. Il sacerdote intercettò questo sguardo, pensando a qualcosa. Non è bene che le persone stanche facciano domande. Disse. Entrarono in una piccola stanza, che era lo studio di padre Pablo. Padre Pablo portò due bicchieri di tisana calda e del pane secco. Anna ne prese solo un po' e basta. Non aveva voglia di bere né di mangiare. Pensava solo alla figlia che aveva dato via così facilmente. Scappata via. Perché aveva paura del bandito? Credeva che la polizia fosse con lui? Forse stava scappando per salvare suo figlio? E ora si rendeva conto di aver perso Caterina. Anna si sedette, rimuginando. William masticava con piacere alcune fette biscottate e padre Pablo guardava con attenzione la giovane donna. Hai una grande tristezza nel cuore. Disse infine. Se vuoi, puoi dirmelo. Non posso, padre. Anna rispose con gli occhi bassi, trattenendo a stento le lacrime. Non ti forzerò, ma sappi che se vuoi parlare, io sono sempre pronto. Pablo pensò per un attimo e continuò. Mi ha chiesto un alloggio e io posso aiutarla. Una delle nostre parrocchiane mi ha detto di recente che avrebbe permesso a qualcuno di stare con lei. Non potresti trovare di meglio di una donna rispettabile. Lo farà. Quanto chiede? Nessun costo. Vuole solo un aiuto in casa. Sta andando avanti con gli anni. Anna accettò. Dopo aver lasciato il tempio, si recarono con padre Pablo a casa della donna. Baba Zoe accolse gli ospiti con calore e, quando apprese lo scopo della visita, si spruzzò le mani dalla gioia. Già non si aspettava di trovare qualcuno. Ma tu non mi conosci affatto, vero? Le chiese Anna. E se non ti piacessi? Io ho un bambino. Mi piaci già. Nonna Zoe sorrise. Soprattutto se ti ha portato tuo padre Pablo, la mia anima è in pace. E il fatto che tu sia con tuo figlio è ancora meglio. Mi piace il suono dei bambini e delle risate in casa. I miei nipoti vivono lontano. Mio figlio è andato al nord e si è stabilito. Vengono a trovarmi al massimo una volta ogni due anni. Così Anna è rimasta con nonna Zoe. L'aiutata nei lavori domestici, si è presa cura di William. Ma il mio cuore aveva fretta. Non riuscivo a pensare ad altro che a Caterina. E anche lei era preoccupata di come avrebbe potuto guadagnarsi da vivere. Viveva con documenti falsi e non riusciva nemmeno a trovare un lavoro con quelli. Per fortuna Nixon le aveva dato dei soldi per tirare avanti. Ecco di cosa viveva adesso. A volte pensava che forse avrebbe dovuto ascoltare Nixon allora. Forse avrebbe dovuto lottare per Caterina fino alla fine. Chi l'avrebbe messa in prigione o portata in ospedale? Non è che sia colpevole di qualcosa. E si sarebbe potuto occupare di Michael. A un certo punto Anna decide di parlare con il padre di Pablo. Spesso veniva a vedere come stavano gli ospiti. Quella sera Anna stava scavando in giardino. Quando il cancello scricchiolò, papà Pablo entrò nel cortile. Si salutarono, chiacchierarono per un po' di tempo su argomenti distratti. Poi Anna decise. Ho bisogno di un consiglio, padre. Disse. Beh, credo sia arrivato il momento di parlare. Annui il sacerdote. Sediamogli. Si addentrarono nel giardino dove c'era una vecchia panchina. Si sedettero. Nonna Zoe era in cucina a fare qualcosa. William era accanto a lei. Il bambino stava cantando una canzone, la stessa che lui e Caterina avevano imparato. Baba Zoe ascoltava e cantava anche. Il loro duetto armonioso si sentiva dalla finestra aperta. Baba Zina e William erano diventati amici. Pablo sorrise. Sì, Baba Zina è come una nonna per suo figlio. Anna Annui. Rimase in silenzio, poi all'improvviso si ingiozzò e le lacrime le rigarono il viso. Ma ho anche una figlia. E l'ho lasciata, sono scappata. E, confusa, preoccupata, raccontò a Pablo tutto sulla malattia di William, sui debiti, sulla morte del marito, sulle minacce di Michael e sulla sua offerta di dargli la figlia. E poi raccontò degli eventi peggiori, di quando la figlia di Anna le era stata portata via e di come aveva quasi perso il figlio, di come aveva dovuto fidarsi di un estraneo perché la polizia che aveva sperato era in combutta con Michael. Ho sbagliato tutto. Anna ha riassunto tutto. Sono stata ipnotizzata. E ora mi rendo conto di aver tradito mia figlia. Come sta la mia bambina? Non si dia la colpa di nulla. Pablo la rassicurò. Se l'hai fatto, l'avrai fatto per un motivo. Te lo dico io il motivo. Ho bisogno di un consiglio. Devo andare nella mia città natale a cercare Caterina e ho paura che mi succeda qualcosa. E io, William, è possibile contattare la polizia qui? Penso che sia possibile. Soprattutto se conosco qualcuno lì, mi aiuterà. Solo una cosa. Ho capito che è venuto qui con documenti falsi. Perché? Nixon ha detto che la polizia non mi avrebbe trovato in questo modo. A quanto pare c'è già un mandato di cattura in città per instabilità. Potrei essere violento, sospettato di aver fatto del male a mia figlia. Ma non è vero. Nixon stesso ha detto che Michael ha preso Caterina come aveva promesso. Sì, ti hanno intimidito. Pablo scosse la testa. Ma ce ne occuperemo noi. Ma bruciate quei documenti. Ha con sé quelli veri? Sì. E allora vivi in base a quelli? Se mi arrestano? Non credo che nessuno la tratterrà. Sembra che sia stato ingannato, approfittando della sua ingenuità. Perché? Secondo me, per tenerti fuori dai guai. Il giorno dopo Anna e Pablo andarono alla polizia. L'investigatore ascoltò Anna e promise di aiutarla. Alex scopri in modo non ufficiale, per favore. Pablo chiese. Certo, Pablo. Mi dispiace, padre. L'investigatore annui. Anna e Pablo lasciarono la stazione. In qualche modo, dopo aver parlato con Alex, si sentivano un po' più luminosi e fiduciosi che le cose sarebbero migliorate. Un bravo investigatore. Sospirò e guardò il padre con aria interrogativa. Lo conosce da molto tempo? Eravamo insieme in Vietnam. Pablo rispose in modo evasivo. Abbiamo vissuto, vissuto e combattuto. Sono un ex paracadutista, Anna, vivevo la mia vita senza l'esercito. Poi sono stato ferito, sono stato radiato. È stato uno shock per me. A un certo punto ho persino bevuto. Dopo il congedo, la mia fidanzata mi ha lasciato. Tutto sommato, è stato brutto. Poi ho incontrato un vecchio che lavorava come guardiano in una chiesa. Allora non volevo vivere. E lui mi ha portato in chiesa. E allora mi si è aperta un'altra vita, un altro significato. Sono andato in seminario. Poi sono stato mandato in questo villaggio. La parrocchia qui è piccola, ma la gente è amichevole. Padre, lei dice, un significato diverso. Che cos'è? Tutti i nostri problemi sono dovuti al fatto che c'è molto male in giro. E noi immagazziniamo questo male nel nostro cuore. Rabbia, risentimento, rancore. Dobbiamo lasciare andare, perdonare tutto. E allora il vostro cuore sarà aperto al bene. Voi stessi farete del bene e questo vi tornerà indietro tre volte. Interessante! Rispose Anna pensierosa. Ma si può dimenticare e perdonare tutto? È impossibile. Credimi, sorella, si può, ma è difficile. Così proseguirono la conversazione fino a raggiungere la casa di nonna Zoe. William era seduto su una panchina a spargere semi. Quando vide la mamma e il papà, si precipitò verso di loro. Mamma, dove sei stata? Esclamò il ragazzo. Mi sono svegliato e non c'eravate più. Mamma, ho sognato Caterina, come se fosse venuta da noi. Anch'io la sogno. Abbracciando il figlio, la donna confessò. Spero che presto i nostri sogni si avverino. Cosa intendi per reali? Così. Il sacerdote li salutò e si affrettò a recarsi al tempio per la funzione. Anna e William andarono a casa dove nonna Zoe aveva già preparato le frittelle. Nonna Zoe, perché ti preoccupi? Anna sussultò quando vide la montagna di frittelle. Sarei venuta a preparare la colazione da sola. Non è difficile per me, è un piacere. Sorrise l'anziana donna. Anna, ho il senso della vita nell'assistenza. Non apro gli occhi ogni mattina per niente. Anna abbracciò l'anziana donna. In quel breve periodo erano diventate come una famiglia. Sì, le cose miglioreranno. Miglioreranno. E Caterina verrà ritrovata. Passarono alcuni giorni. Anna aspettava. Per qualche motivo si fidava di Alex, l'investigatore. È un amico di padre Pablo. Ma quella sera l'investigatore si recò a casa di nonna Zoe. Anna capì dalla sua espressione che non avrebbe sentito nulla di buono. Perché non ha menzionato il fatto che lei stesso aveva abbandonato sua figlia? Chiese Alex senza preamboli. Abbandonata? Esclamò Anna. Non è vero. Ti ho detto cosa è successo. Me l'hai detto tu. E io, come una stupida, ti ho creduto. Ho detto alle autorità che il figlio di una povera donna le era stato portato via. Ha minacciato un altro bambino. Ho fatto una richiesta alla vostra città. E cosa ho scoperto? Ho scoperto che ha ufficialmente rinunciato alla custodia di sua figlia. Mi hanno mandato tutti i documenti. Non ho fatto nulla del genere. Anna sussurrò inorridita. Non so nemmeno dove sia la custodia. Questa è la sua calligrafia? La sua firma? Alex le mostrò una copia della domanda dove Anna aveva scritto a mano il proprio rifiuto di Caterina e la firma era la sua. Non sono stata io. Urlò Anna. Alex, ti prego, credimi, non posso averlo scritto io. Ho fatto tutto ciò che era in mio potere. Mi dispiace. Puoi almeno dirmi dove mia figlia adesso? Non è in un orfanotrofio, vero? È sicuro che Michael l'abbia presa? Non ho nessuna informazione. So solo che stanno preparando i documenti per la certificazione. Alex salutò seccamente e se ne andò, maledicendosi per essersi fatto coinvolgere in questo caso. Pablo avrebbe dovuto fidarsi di una persona sconosciuta. Aveva perso la sua spiritualità nel capire le persone. Era possibile, ovviamente, perseguire Anna per l'uso di documenti falsi. Ma Alec decise di lasciar perdere. O lui e Pablo avrebbero litigato. Se ne andò. Anna rimase in piedi davanti alla recinzione, fissando il nulla. Aveva perso per sempre sua figlia, presto il padre di Pablo venne a trovarla. Ascoltò la donna, ci pensò su e poi improvvisamente suggerì questa opzione. Se questo Michael vive nella capitale e occupa una posizione abbastanza elevata nella società, allora è necessario andare nella capitale. Sarà possibile trovarlo, scoprire dove abita, e poi vedere se ha Caterina, e poi che cosa. Anna guardò speranzosa il padre. E poi? Ci staremmo già pensando, lui sospirò. Vado io. Devo andare in ospedale. Sei malato? No, ho solo bisogno di un controllo. È solo una formalità. Ma devo andare nella capitale. vede. Vede, che fortuna. Vengo con lei. Non è una buona idea. E se Michael ti vede? Lo respingerò anche con la tonaca. Ma è difficile sapere come reagirà. E Caterina? Non la riconosceresti. Ha una foto. Anna è entrata subito in casa. Nella sua borsa, in una tasca segreta, c'era una foto della ragazza. Era uno dei pochi oggetti di valore che era riuscita a portare con sé durante la fuga. Diede la foto al vescovo. Lui se ne andò, promettendo di scoprire tutto, e un paio di giorni dopo partì per la capitale. Anna lo aspettò con impazienza. Dieci giorni dopo padre Pablo tornò. Anna lo venne a sapere e si precipitò al tempio. Padre Pablo stava uscendo dal sagrato. Quando vide Anna, per qualche motivo sospirò pesantemente. Il cuore della donna sprofondò. Cosa? Chiese con speranza e paura. Non posso dirvi nulla. Padre Pablo scosse la testa. Mi dispiace, Anna. Padre Pablo le disse quello che era riuscito a sapere su Michael. Risultò che aveva ritirato la sua candidatura, ufficialmente ritirata, ma ufficiosamente era emersa la sua fedina penale. E per evitare uno scandalo, era stato convinto a non partecipare. Inoltre, ha avuto una controversia con i suoi soci d'affari, e ha presto lasciato il paese e, sembra, per una residenza permanente. Pablo è riuscito a visitare la casa in cui viveva Michael e, dopo aver parlato con la guardia, è riuscito a scoprire che effettivamente pochi giorni fa Michael è tornato nella capitale con una bambina. La moglie di Michael era felice come un elefante. Diceva che ora avevano una figlia. Così, tutti e tre sono andati all'estero. La bambina. Come si sentiva? Anna lo chiese tra le lacrime. La guardia disse che era triste. Piangeva molto, ma Nelly, la moglie di Michael, la trattava molto bene. Dopo una breve esitazione, Pablo rispose. Mi rendo conto che non è una consolazione. Ma Caterina è trattata bene. Caterina? Forse è un'altra ragazza? Anna si è alzata in piedi. No. Padre Pablo abbassò gli occhi. La guardia l'aveva riconosciuta. Era Caterina, che Michael aveva portato nella capitale. Lei e sua moglie erano quelle con cui era partito. Le gambe di Anna cedettero. La sua ultima speranza era svanita. Aveva creduto fino all'ultimo che sua figlia sarebbe tornata. Avrebbe potuto abbracciarla, scusarsi per averla lasciata così. Anna, sei come un lupo ferito. Al suo grido, nonna Zoe e William, terrorizzati, uscirono di corsa dalla casa. Mamma, sei malata? Ogni tanto il ragazzo ripeteva, toccando la mano della mamma. Ma lei non riusciva a vedere né a sentire nulla per il dolore. Alla fine si rese conto che non avrebbe più rivisto sua figlia. Al tramonto, Anna aveva la febbre. Arrivò l'ambulanza. Il medico le fece un'iniezione e disse che sembrava un esaurimento nervoso. Non serviranno, ma solo emozioni calme e positive. Dove trovarle, queste emozioni? Nei giorni successivi, nonna Zoe circondò Anna di cure e attenzioni, come una madre si prende cura del suo inquilino, e William correva sempre dalla madre. Anna abbracciava suo figlio, rendendosi conto di quanto lui avesse bisogno di lei, che aveva il dovere di essere forte. Per il suo bene. Ma non c'era alcuna forza. Anche il padre di Pablo andò a trovare Anna. Parlarono a lungo e forse quelle conversazioni ebbero un ruolo importante. Anna affrontò la perdita della figlia, come tutto ciò che le era accaduto. E poi? Poi guardò suo padre con occhi diversi. Padre Pablo era un uomo giovane, ben educato, discreto, rispettabile. Il suo calore e la sua attenzione Anna li sentiva sulla pelle e sul cuore. Riscaldata dalla sua voce. Non vedeva l'ora di partecipare a questi incontri e a queste conversazioni. E padre Pablo si precipitava a casa nonna Zoe. E divenne amico di William. Padre Pablo lo portò al tempio, gli raccontò molte storie interessanti. Il ragazzo era pronto ad ascoltare padre Pablo per ore e a seguirlo. Tutto questo non poteva nascondersi agli occhi dell'attenta Baba Zoya. Un giorno ella intavolò una conversazione con il suo inquilino. Immagino che presto ti trasferirai? Chiese con uno sguardo sorgnone. Come? Dove? Anna era confusa. Baba Zoe, non credere che non ti stia col fiato sul collo. Padre Pablo ha detto che c'è un posto in biblioteca. Dopodomani il direttore mi ha già invitato per un colloquio. Oh, andiamo, tesoro. Baba Zoe mi ha salutato. Sei un piacere. Ma non è questo il punto. Vedo che ti piace nostro padre e che anche tu piaci a lui. Di che cosa stai parlando? Anna Arrossi. Non ho mai pensato a una cosa del genere. Oh, andiamo! Non puoi nascondermi queste cose, vecchia mia. Ecco cosa penso. Quando la propria anima è attratta da una persona, è un peccato respingere questo sentimento. Anna guardò pensierosa la nonna Zoe, poi sospirò pesantemente. Baba Zoe è un prete. Che differenza fa? Baba Zina agitò le mani. Prima di tutto è un uomo. E non ti guarda come una sua parrocchiana. Anna. Beh, è innamorato di te, questo è certo. E tu hai una cotta per lui. Ma non sono nemmeno battezzato. Quanto tempo ci vuole per battezzarsi? Soprattutto quando è la volontà di Dio. Quindi vuoi dire che dovrei essere una sacerdotessa? Anna sorrise confusa. È un po' al strano. E non ho una relazione in questo momento. Il cuore non chiede prima o poi. Ama e basta. E perché ti ricordi di questa parola? Braccio di ferro. Diventerai madre. Oh, no, no! Anna scosse la testa. Sono lontana da questo. Non credo che tu lo sia. Nonna Zoe sorrise di nuovo in modo sorgnone. E la vecchia aveva ragione. Un anno dopo il suo arrivo al villaggio, Anna sposò il padre di Pablo. Ora aveva una nuova vita, e non era una brutta vita. Anna aveva lasciato la biblioteca. Ora era battezzata e faceva la matrona in chiesa, tenendo corsi domenicali per i bambini del posto. Lei e Pablo erano in perfetta sintonia e William ne era entusiasta. Ha un papà così fantastico. No, il ragazzo ricordava ancora il suo primo papà. Anche lui era simpatico, ma quello nuovo era un vero eroe. Un ex paracadutista. Ora Pablo, il prete, era lo standard di comportamento del ragazzo. Passarono cinque anni. In quel periodo, Anna diede alla luce un figlio e una figlia. Amava i suoi figli con tutto il cuore. E Pablo era un buon padre, amorevole e premuroso. William, il maggiore, non si sentiva mai trascurato e adorava i suoi fratellini. Anna lo osservava spesso alle prese e con i più piccoli. Aveva una scheggia nell'anima e pensava che da qualche altra parte ci fosse un maggiore e il suo primo. Sì, aveva superato la perdita, ma non riusciva a dimenticare. Il figlio maggiore di Anna era contento che la mamma non piangesse più. Sorride e il nuovo papà è così meraviglioso. Ma i ricordi del passato erano ben presenti nella mente del ragazzo. Ricordava la sorellina Caterina, ricordava papà Jay, ricordava la mamma che urlava nel parco. Poi piangeva a lungo e loro guidavano da qualche parte. Il ragazzo aveva impresso nella mente questo periodo della sua vita, che faceva paura. Poi arrivò papà Pablo e le cose cominciarono a migliorare. Quando William aveva 12 anni, il padre di Pablo gli parlò per la prima volta della sua futura professione. Diventerò come te, un sacerdote. Il ragazzo rispose senza esitazione. Pablo si limitò a sorridere e a scuotere la testa. Poi disse. Non avere fretta, figlio, nella tua scelta. La strada che porta al tempio è diversa per tutti. E tu hai ancora un'altra strada davanti a te, e devi percorrerla per capire con il cuore ciò che attira la tua anima. Ora stai solo cercando di copiarmi. Non copiarmi. Ma mi piace stare nel tempio, aiutarvi. Mi piace l'odore della cera e dell'incenso. William si oppose. Non è sufficiente. Pensaci. C'è tempo. Ho deciso di organizzare un club patriottico militare alla scuola domenicale. È da molto tempo che voglio farlo. Non ho avuto abbastanza tempo per farlo. E c'erano un sacco di scartoffie da sbrigare. Ma credo che sia tutto risolto. Presto recluterò dei bambini. Cosa faranno? Leggere le preghiere? Anche quello. Pablo sorrise. Poi aggiunse serio. Ma soprattutto impareranno a essere dei veri guerrieri. E pensi che io sia in grado di farlo? William chiese e riflettè per un momento. Ci provi. Presto, proprio come aveva detto padre Pablo, fu aperto un club militare patriottico al tempio. Oltre agli insegnamenti religiosi, padre Pablo si occupava personalmente dei bambini. Padre Pablo insegnava ai bambini la storia, il combattimento corpo a corpo, le cure mediche di base e molto altro. Il suo compito principale era quello di educare i ragazzi a essere patrioti, veri uomini. Molte organizzazioni, tra cui il corpo dei cadetti, lavoravano a stretto contatto con il club militare patriottico. I ragazzi del club partecipavano spesso a varie competizioni, campi di addestramento e socializzavano con i cadetti. William, che faceva parte del club fin dall'inizio della sua formazione, a un certo punto capì che voleva fare il militare. Quando ne parlò ai genitori, Pablo approvò la decisione del figlio. Anna, invece, era allarmata. I militari hanno una vita travagliata in ogni momento. Io non voglio una vita tranquilla. Dichiarò il figlio adulto. Voglio una vita vera e propria. Senza obiettare, la madre si limitò a metterlo in croce. Così, all'età di 16 anni, lasciò la casa in cui aveva trascorso l'infanzia dall'età di 7 anni. Il ragazzo amava il suo fratellino e la sua sorellina. Sia Yu che Lisa piansero, preoccupati per l'imminente separazione. Ma allo stesso tempo si sentivano orgogliosi che il loro fratello sarebbe diventato un militare. Pablo era orgoglioso della sua scelta e anche Anna. Ma era ansiosa di lasciare che il ragazzo, ancora immaturo, andasse nella grande città. Inoltre, la perdita della figlia maggiore era stata dolorosa. E se fosse successo qualcosa a suo figlio? Ma poteva resistere alla decisione adulta del figlio? Ovviamente no! C'era la speranza che la malattia passata del figlio, in questo caso, l'avrebbe aiutata a portarlo via. Ma no! La malformazione era stata curata in giovane età e William era considerato perfettamente sano. E così William era già un cadetto. Gli anni alla scuola per cadetti passarono in un lampo. Poi il ragazzo entrò nell'istituto militare. William sarà, come il suo secondo padre, un paracadutista. È vero, era un po' preoccupato quando superò la commissione medica, ma fu riconosciuto idoneo. C'era una cosa, però. Poteva ottenere una professione militare, ma non gli era consentito diventare un paracadutista professionista. Ciò nonostante, William riuscì a entrare nell'istituto militare. Si rese conto che il suo sogno non sarebbe mai stato pienamente realizzato, ma avrebbe comunque servito la patria, almeno al quartier generale. William studiò diligentemente, superò tutte le norme e, se non fosse stato per una voce nella sua anamnesi, tutto sarebbe stato diverso. Ma le cose andarono come andarono. Una volta all'anno tornava al suo villaggio natale. Qui lo aspettavano la madre, il padre, la sorellina e il fratello. Anche per William si trattava di incontri molto attesi. Un giorno, durante la visita successiva, ebbe una conversazione con Anna che suscitò nella donna ricordi dolorosi. «Mamma, mi ricordo di lei, vero?» disse William. «Chi?» «Caterina, la sorella maggiore. Ricordo ancora la canzone che ho imparato con lei. Io e Lisa la cantano ogni tanto». Non ho mai dimenticato Caterina nemmeno per un momento. Anna confessò e sospirò pesantemente. «Mi chiedo come sia adesso, come sia andata la sua vita. Probabilmente anche lei sta frequentando un'università. Forse dovremmo cercare di trovarla adesso». «Dove si trova?» «Probabilmente in un altro paese. William ci pensò su. Conosceva tutta la storia. Era davvero difficile. Caterina probabilmente aveva un altro cognome e sì, aveva dimenticato la sua vita precedente. Ma all'improvviso. Ora ci sono programmi per trovare i parenti. Potremmo scrivere al giornale. Ha già suggerito tutto. Ho paura, figliolo, che se tutta la verità venisse fuori, sarebbe dura per Caterina. Probabilmente pensa a quel bandito come a suo padre». Anna scosse la testa. William dovette dare ragione alla madre, ma il pensiero della sorella maggiore non lo abbandonò mai. Il tempo passò. Al quinto anno William conobbe una bella ragazza. Anastasia si stava laureando in medicina. Tra i due giovani iniziò subito una relazione. Un mese prima di ricevere il diploma, William fece ad Anastasia una proposta di matrimonio. E poi si celebrò il matrimonio. È vero, non durò molto la loro luna di miele. Una settimana dopo, William partì per un viaggio di lavoro e quando tornò, tre mesi dopo, Anastasia lo accontentò. Presto diventeranno genitori. Un mese prima della nascita della figlia, William fu trasferito proprio nella città in cui era nato. William era un po' al confuso. Era sorprendente ritrovarsi nel luogo in cui erano passati i primi anni di vita e, come se, alcune immagini del passato fossero rimaste nella memoria, ma tutto sembrava sconosciuto, estraneo. William trovò persino la casa in cui vivevano. Nel loro appartamento viveva una coppia di anziani. Come avessero ottenuto questo alloggio, a William non interessava, anche se si sentiva un po' l'offeso, perché, in effetti, quell'appartamento era stato tolto a sua madre all'epoca. Ma l'uomo decise di non rivangare il passato, altrimenti non si sa che razza di formicaio si potrebbe distruggere. Alla fine ognuno avrà comunque il suo. Alla giovane famiglia fu assegnato un appartamento di servizio. Presto nacque una figlia. William propose di chiamare la bambina Caterina in onore della sorella maggiore. Anastasia aveva qualche dubbio sul fatto che ne valesse la pena. In onore dei parenti defunti non si può. Caterina è viva. Ne sono certa. William la persuasa e convinta. Caterina è un nome fantastico. Passarono altri anni. William prestava servizio in un'unità militare, aveva spesso viaggi di lavoro, e anche lunghi. Anastasia si abituò. Quando Caterina aveva tre anni, andò a lavorare nella stessa unità militare dove prestava servizio il marito. Sua figlia fu inserita in un asilo. Vi andavano sia i bambini militari che quelli civili. Tutto si svolse come al solito. Anastasia e sua figlia non si annoiavano nell'attesa del marito e del padre. Lavoro, asilo. Nei fine settimana e nelle vacanze Anastasia andava dai suoi genitori, che vivevano poco lontano. Ugo e Lisa andavano a trovarli di tanto in tanto. I ragazzi studiavano già all'università della capitale. Anna e Pablo andarono a trovarli solo una volta. Era molto lontano. E per Anna era difficile stare in una città in cui aveva sofferto così tanto. Anastasia e William lo capivano e così, quando William aveva una vacanza, andavano a trovare i genitori. In breve era una famiglia numerosa e amichevole, anche se separata da chilometri. Ma quando Caterina compì cinque anni, tutti i parenti poterono venire alla festa di compleanno e William era solo lì. Quella mattina Caterina fu portata all'asilo nido. Fu deciso che la festeggiata non avrebbe dovuto assistere a tutti i preparativi per la festa. Anastasia e sua madre Anna stavano preparando la tavola delle feste. Lisa con Hugh e Pablo stavano decorando l'appartamento. E William era nell'unità. La sera aveva chiesto di uscire prima, perché la moglie gli aveva chiesto di andare a prendere la figlia all'asilo. Caterina uscì dal gruppo soddisfatta. Tra le mani stringeva alcuni volantini. I ragazzi si sono congratulati con me, disse Felice, forgendo i fogli al padre. Erano disegni di bambini. Qualcuno aveva disegnato una vacanza. Qualcuno aveva una specie di torta. Qualcuno aveva dei palloncini. Alcuni cercavano di disegnare Caterina. William guardò i disegni con un sorriso e non prestò attenzione al ragazzo che uscì dal gruppo dopo Caterina. Il ragazzo si avvicinò alla ragazza e la abbracciò. Caterina, vuoi una torta oggi? Le chiese. Sì, rispose lei con gioia. Una grande, mi ha detto la mamma. E i regali? E i regali? Papà mi ha promesso un orso. Un orso come questo? La bambina alzò le braccia e saltò. No, non esiste. Il ragazzo scosse la testa. Cosa? Sì, esistono. Caterina fece il broncio e si rivolse al padre. Papà, dimmi! Sì, sì, è vero, disse William, distogliendo lo sguardo dai suoi disegni. Caterina, smettila di vantarti. Andiamo a casa! La ragazza corse dal padre e i due si misero ad armeggiare nel cassetto dei vestiti. E il ragazzo rimase a guardarli. Se tu fossi mia sorella, mi inviteresti alla festa? Chiese all'improvviso e, senza aspettare la risposta, continuò. Ti canterei una canzone. Ti piacerebbe? E poi cantò. Sono pronto a gettarmi nell'oceano. Sono pronto a scalare un vulcano senza paura. Non ho paura di nessuna bestia, ma ho paura di essere una sorella. Ed è ora di dirlo apertamente. Cos'è un fratellino? È peggio di una conchiglia. William, è una canzone femminile. Rispose Caterina al di sopra delle sue spalle, poi si girò e mostrò la lingua. William, sentendo la canzone, si bloccò. Erano le parole che conosceva fin da bambino. Ed era la canzone che sua sorella maggiore era solita cantichiare per lui. Come faceva questo ragazzo a conoscerla? La canzone non avrebbe detto di essere troppo conosciuta. William si avvicinò al bambino, si accovacciò davanti a lui e lo guardò negli occhi. Ragazzo, dove hai sentito questa canzone? Chiese. Mia madre me la cantava sempre. Il bambino rispose a bassa voce e abbassò gli occhi. Sembrava che stesse per piangere. Mamma, dove? La mamma è in ospedale. Bambino, come si chiama? Chiese William. Caterina. Io sono William. William fu colpito da un'intuizione. Potrebbe essere il figlio di sua sorella maggiore? La donna si chiamava Caterina e aveva chiamato suo figlio come suo fratello. Lui aveva chiamato sua figlia come sua sorella. No, era incredibile. Come potevano Caterina e sua sorella essere finite qui? E sappiamo per certo che è stata portata all'estero quando aveva sette anni. Una maestra d'asilo uscì dal gruppo. Quando vide il ragazzo, scosse la testa. William Chains, sei scappato di nuovo? Ti avevo detto di giocare con la macchina nell'angolo. Dai, non intralciamo. Caterina si sta preparando per andare a casa. Ma io pensavo che avrebbero portato via anche me. Rispose tranquillamente il bambino. William, tua nonna verrà più tardi, lo sai. Sospirando, l'insegnante rispose e prese la mano del bambino. Il William adulto rimase immobile, rendendosi conto di ciò che aveva sentito. William Chains. Il cognome di Michael era davvero Chains. L'insegnante e il ragazzo si avviarono verso il gruppo e William li seguì, dando istruzioni alla figlia di indossare la calzamaglia. Chiamò la badante e chiese senza mezzi termini. Dove è la madre di quel ragazzo? La signora Caterina è in ospedale al momento. Guardando con tristezza il piccolo William, che era impegnato con la sua macchina da scrivere, la donna rispose. È stata investita da un'auto una settimana fa. Il colpevole è fuggito senza chiamare i soccorsi. Caterina è ora in ospedale e non si sa se si riprenderà. È in coma. Oh, mio Dio, che disastro! Disse William. Impallidì. Il suo cuore batteva sempre più forte. Era convinto di aver incontrato suo nipote e di aver quasi trovato sua sorella maggiore. Hai detto che la nonna sarebbe venuta a prendere il bambino. Quando viene di solito? All'ora di chiusura. A volte devo sedermi e aspettarla anche più tardi. Sta lavorando? No mi scusi, perché tutte queste domande? La donna guardò William con sospetto. Vede, avevo una sorella maggiore che è scomparsa anni fa. E credo che questa Caterina possa essere lei. E penso anche che io e William ci assomigliamo. La donna guardò William con sorpresa e poi il piccolo William. In effetti, entrambi hanno i capelli biondi e ricci. La somiglianza c'è sicuramente. Ma è tutto così strano. Se vuole, può parlare con la nonna di William. Ma dovrà aspettare. Dopo averci pensato un po', lei rispose. Aspetteremo. William annui in risposta. Naturalmente Caterina voleva tornare a casa per le vacanze. Ma William la convince che qui aveva affari seri, quasi un incarico militare. La ragazza sapeva che gli militari per il papà sono cose serie e quindi, sospirando pesantemente, si sedette obbediente sulla panchina per aspettare. I genitori arrivarono e tornarono a casa con i ragazzi. Presto tutti furono sistemati, tranne il ragazzo William. All'inizio era nella sala giochi. Cercò di entrare nella sala d'attesa alcune volte, ma l'insegnante non lo fece entrare. Poi si è arresa. Lascia che stia con Caterina e suo padre. Lei preparerà un programma di lezioni per domani. Erano già le otto quando la porta dell'asilo si aprì ed entrò una donna trasandata, non ancora anziana, ma dall'aspetto cattivo. «William, preparati!» gridò dalla porta di casa. «Perché non sei ancora vestito? Ti aspetto!» Il bambino trassalì al suono della sua voce, poi nuotò obbediente verso il suo box. «Mi scusi, William» fece un passo verso la donna. «Ho bisogno di parlarle, ma non so da dove cominciare. Cominciamo dal principale». La donna sorrise e William pote sentire un forte odore di alcol. Sopraffatto dal timore, William chiese «Lei è la nonna di William? Perché ti interessa?» Con una leggera esitazione, la donna rispose. «Che cosa vuole? Voglio solo sapere se lei è la sua nonna o se questo è il figlio di sua figlia adottiva». William rispose con fermezza. «E non si tratta di un'inutile curiosità. Ho tutte le ragioni per pensare di avere un nipote davanti a me in questo momento. Non sembra che lei abbia bevuto, ma sta dicendo cose senza senso». Borbottò la donna. Poi si precipitò ad aiutare a vestire il ragazzo. Non disse un'altra parola. E un minuto dopo volò fuori dal giardino, afferrando William, che era ancora vestito. William Senior decise di scoprire dove viveva la donna. Lui e sua figlia salirono in macchina e la seguirono lentamente. Ben presto la donna e il ragazzo si nascosero in uno dei vecchi edifici a cinque piani. Beh, l'indirizzo approssimativo lo conosciamo e l'appartamento lo stabiliamo un po' più tardi. Questo è ciò che ha deciso William. Ora è il momento di portare la figlia in vacanza, perché la bambina si annoia completamente. Erano attesi da tempo. Ma la vacanza non è stata affatto rovinata. C'era una torta enorme, e regali, tra cui questo orsetto. E anche tanti auguri alla piccola festeggiata. Caterina era felicissima. E tutti i parenti si rallegrarono. Anche William partecipò ai festeggiamenti, ma i suoi pensieri erano lontani. Aveva davvero trovato sua sorella? Già dopo che il divertimento era finito e tutti i numerosi ospiti si erano sparpagliati a dormire in diversi angoli dell'appartamento, Anastasia chiese al marito in un sussurro. William, perché sei così? Come? Chiese lui, pensando alla sua. Distaccata. Alla festa della figlia si sono riuniti tutti i parenti. E tu sei stato tra le nuvole tutta la sera. Cosa? Un altro viaggio di lavoro? Anastasia guardò con ansia il marito. William scosse la testa negativamente. Poi raccontò brevemente la storia in giardino. Anastasia ascoltò e concordò con il marito. È tutto molto strano. Non dire ancora nulla a mamma Anna. Lei lo consiglia. Si preoccuperebbe. Io non lo pensavo. Domani, dopo la funzione, andrò in quella casa e parlerò con i vicini. Forse avrò modo di parlare anche con quella donna. Sono un sacco di coincidenze, ma se mi sbagliassi? Il mattino è più saggio della sera. Anastasia sorrise e abbracciò il marito. Andiamo già a letto. La notte William sognò la sua infanzia. Giocava a nascondino con la sorella maggiore e non riusciva a trovarla per tutto il tempo. Sentiva solo le sue risate e la sua voce. Sono qui! Sono qui! Per tutto il giorno successivo William guardò con ansia l'orologio. Appena terminata la funzione, si precipitò al vecchio edificio a cinque piani. Fuori dalla casa, come di consueto, sedevano le vecchie donne che sanno tutto di tutti. William le riconobbe subito dai loro sguardi giudicanti. Una specie di telecamere di sorveglianza. Scusatemi, belle signore. William si rivolse loro con un sorriso affascinante. Conoscete tutti in questa casa? Suppongo di sì. Una di loro rispose a denti stretti. C'è una donna di circa 60 anni che vive nel secondo ingresso. Ha un nipote. William lanciò la sua battuta. William! Cosa stai facendo? Rispose l'altra. Stava fissando Dimitri. Niente. Credo di conoscerla. È una vecchia conoscenza di mia madre. Credo sia nei guai in questo momento. Vorrei aiutarla, parlarle. Quell'uomo ha mentito. Allora parla. La prima signora sorrise. A cosa le serviamo? Vede, fa finta di non conoscermi. Probabilmente si vergogna di qualcosa. Certo che si vergogna di qualcosa. L'altro sbuffò. La vecchia signora è un'alcolizzata. Sua figlia è con un piede nella fossa e continua a bere. Che cosa stanno guardando le autorità di tutela? Il bambino dovrebbe essere portato via da lei. È una forte bevitrice. Non riesco a credere che sia lei. Una volta era diversa. La prima signora anziana rise un po' e poi diede a William queste informazioni. Nelly, questo il nome della donna che interessava a William, è arrivata in questa città dieci anni fa. Si dice che prima di allora vivesse all'estero con un marito ricco, ma il marito era un bandito. Lasciò il paese perché stava fuggendo dai suoi amici, che lo trovarono dopo molti anni e lo uccisero comunque. A Nelly portarono via tutte le ricchezze e lei riuscì a malapena a fuggire. All'inizio viveva nella capitale, ma anche lì la sua vita non era così dolce. Arrivò in questa città e si mise in contatto con il proprietario del mercato locale, Nixon. Si diceva che si conoscessero già. Hanno vissuto insieme e per un po', poi Nixon la cacciò. Aveva trovato una donna più giovane e più attraente. Ma non la lasciò senza un centesimo. Comprò un appartamento nel palazzo e le diede anche dei soldi. Nelly visse così. Poi Nixon morì di infarto e Nelly si rattristò. Non poteva più avere soldi. Aveva una figlia. Sorprendentemente, non assomigliava affatto alla madre. Una ragazza per bene, rispettosa e ben educata. Caterina si era laureata in un'università pedagogica della capitale e lavorava nella loro città. Ma era troppo ingenua. Un bel uomo la ingannò, giocò con lei e la lasciò. Partì per un luogo sconosciuto. E Caterina rimase incinta. Nelly le urlava ogni giorno di sbarazzarsi del bambino. Solo che Caterina non le diede retta. Diede alla luce un bambino. Si prese cura del bambino, questo è certo. Ma non c'erano abbastanza soldi in famiglia. Quando William aveva solo un anno e mezzo, lo affidò a un asilo nido e andò a lavorare. Poverina era divisa tra la scuola e l'asilo. Nelly aiutava a malapena la figlia, come se fosse un'estranea. Per guadagnare di più, Caterina trovò un altro lavoro presso la casa editrice. È così che girava. E di recente, mentre tornava a casa dopo il lavoro, è stata investita da un'auto, cosa succederà in seguito, lo sa solo Dio. William ascoltò le anziane signore che già gli raccontavano la storia e si rese conto che il puzzle si stava componendo. Aveva sicuramente trovato sua sorella. È a casa adesso? Chiese alle anziane signore. Chi? Nelly, vero? Dove altro potrebbe essere? È già andata a prendere il nipote all'asilo. Ora probabilmente è seduta in cucina a bere la paghetta del figlio. Che dolore! Se la madre muore, probabilmente lo porteranno in un orfanotrofio. Bestemmia sulla lingua! William non ha resistito e si è subito corretto. Perdonatemi, care signore, grazie mille per questa storia così istruttiva. E poi ha consegnato all'anziana signora un paio di cioccolatini che, tra l'altro, aveva in tasca. In realtà li ho comprati per mia figlia. Ma cosa si può fare? Le signore anziane hanno fatto del loro meglio. Cosa vuoi fare? Una delle signore anziane si ricordò, scartando una tavoletta di cioccolato. Sono delle autorità di vigilanza e lo sarò. Senza battere ciglio, William rispose. È vero! Le signore anziane si guardarono l'un l'altra. Probabilmente è meglio così. Vai, mio caro, al dodicesimo appartamento, lì con tuo nipote. Pablo si inchinò con gratitudine e si avviò verso l'ingresso. Un paio di minuti dopo si trovava davanti alla porta scrostata, ancora indeciso se premere il campanello. Ma si scoprì che il campanello non funzionava. William bussò, prima piano, poi più forte. Infine batte i pugni. Chi sta bussando? Sentì una voce di donna. La porta si aprì e Nelly apparve sulla soglia. Chi sei? Chiese lei, non riconoscendolo. La tua coscienza? William le rispose e spinse gentilmente la donna indietro. Entrò nell'appartamento. Dove stai andando? Urlò Nelly. Chiamo la polizia. Chiamo la polizia. È il momento in cui risolveranno la questione come si deve. E lei risponderà di tutto, della ragazza scomparsa, della madre spaventata, del ragazzo minacciato con un coltello dai farabutti di suo marito. Perché sei pallida? Ti è tornato in mente qualcosa? Chi sei? Nelly ripeteva spaventata. Sono il ragazzo. Rispose William. Certo, stava andando a tentoni, non era sicuro di tutto, ma dalla reazione di Nelly capì che aveva colto nel segno. Non è colpa mia. Sussurrò Nelly. È stata tutta un'idea di Michael l'altro giorno. Dimmi, entrarono in una stanza che evidentemente non era stata pulita da settimane. A quanto pareva, non da quando Caterina era stata ricoverata in ospedale. Nelly si sedette sul divano, strofinando il colletto della sua camicetta asciutta, e iniziò un racconto sconclusionato. Il finale non era molto diverso da quello che William aveva già sentito dalle vecchie. Ma la storia era iniziata molto prima. Era stato quando Michael aveva dato ad Anna i soldi per le cure del figlio. Gli piaceva la giovane insegnante e già immaginava come lei lo avrebbe ringraziato. Ma lei aveva mostrato il suo carattere e questo aveva fatto arrabbiare Michael. Nessuna donna aveva il diritto di rifiutarlo. Nelly sapeva che Michael aveva una cotta per qualcuno della cittadina. Lo faceva di tanto in tanto, e quindi non gli importava molto, solo se il marito le dava dei soldi. Lui è un idiota, forse non la ama, ma suo padre è una mente criminale a paura. E in quel momento Nelly ricevette la diagnosi definitiva. Infertilità. Era il risultato di un'interruzione di gravidanza non andata a buon fine in gioventù. Nelly era sotto shock. E non per il fatto di non poter avere figli, ma per il fatto che tutte le sue amiche ostentavano i loro bambini e lei non poteva. Sì, voleva una bambola viva, voleva anche prenderla dall'orfanotrofio, ma aveva paura dell'ereditarietà di questi bambini. E poi Michael disse che presto avrebbe avuto una figlia, ma aveva già sette anni. A Nelly andava bene così. Niente urla, niente risvegli notturni. Sarebbe diventata una principessa in men che non si dica. Anche se la foto che Michael le aveva mostrato era adorabile. Sapeva di essere la figlia della donna che Michael stava cercando. E allora? Nelly provò persino un senso di soddisfazione. Saprà come fare impazzire gli altri uomini. No, non era gelosa, ma Michael questa volta era troppo nervoso. Per ottenere la ragazza nel modo più rapido e silenzioso possibile, Michael costruì un'intera combinazione. Per prima cosa, sottomise le forze dell'ordine locali, poi negoziò con il commerciante Nixon. Nixon doveva molto a Michael e quindi accettò di fare la parte dell'uomo preoccupato. Riuscì a convincere Anna che la fuga dalla città era fondamentale, perché il ragazzo era già stato attaccato. Tra l'altro, nessuno aveva intenzione di fare del male a William in quel momento. Era solo teatro. Ma Anna ci credette. Diede l'appartamento a Nixon per ringraziarlo delle sue cure. E quest'ultimo, dopo aver fatto salire Anna e il bambino sul treno, si precipitò immediatamente a riferire a Michael che il lavoro era stato fatto. Allo stesso tempo, la finta rinuncia di Anna era già stata scritta. Anche l'ufficio di assistenza all'infanzia era affamato di denaro. Ma Michael non era avaro e presto Caterina divenne ufficialmente la figlia sua e di Nellie. Nixon vendette l'appartamento di Anna e Jay e fu anche contento della situazione. A Nellie piaceva la ragazza, anche se all'inizio piangeva in continuazione. Niente, i buoni psicologi e le pillole fecero il loro lavoro. Caterina cominciò a dimenticare la sua vecchia famiglia. E Nellie era felicissima. Ora è una mamma. Ma dovette preoccuparsi ancora un po', il padre di Nellie fu assassinato, Michael fu assassinato. E poi venne fuori il marcio su suo marito e lui dovette ritirare la sua candidatura. Ma anche in questo caso Michael si è presentato, ha raccolto la moglie e la nuova figlia e si è trasferito all'estero. Vivevano lì. Poi il marito fu trovato e rimosso. Dovettero tornare indietro. William conosceva già la parte successiva della storia dalle onnipresenti vecchiette. E non era colpa mia. È stata tutta un'idea di Michael. Ed ero sicuro che tua madre fosse d'accordo. Piangeva e imprecava. Ma William poteva vedere nei suoi occhi che stava mentendo. Lei sapeva tutto. Ora sta solo cercando di restarne fuori. Ma è troppo tardi per affrontare il passato. I principali colpevoli sono nella tomba. Dove è il ragazzo? Chiese William seccamente. Quale ragazzo? Tuo nipote, William. Quindi nella stanza. E Nellie fece un cenno verso la porta chiusa. Si scoprì che aveva chiuso a chiave il ragazzo perché non la disturbasse. William le prese la chiave, aprì la porta ed entrò nella stanza. Il piccolo William si sedette rannicchiato in un angolo. Ciao, cercò di sorridere al William adulto. Mi riconosci? Il padre di Caterina. Il ragazzo disse a bassa voce. È vero. Vuoi che ti dica un segreto? Sono tuo zio. Mio zio. Che cos'è? Mio zio. Gli occhi del bambino brillarono improvvisamente. Mio zio. Zio, portami via da qui. Il bambino piange e si getta sul collo di William. Dio, quanto è difficile per questo bambino vivere a casa della nonna ubriaca, senza ricevere da lei nemmeno una goccia di calore. Zio. Si inghiozzava il bambino. La nonna dice che mia madre morirà e mi metterà in un orfanotrofio, perché sono un errore di natura. Non capisco, com'è possibile? Sono una specie di diverso? Non credo che mia madre morirà. È mia nonna che lo dice apposta per farmi piangere. Quando piango, lei ride. Che bastardo! Disse a malapena William. Poi disse al bambino. Non resterai con tua nonna un minuto di più. Adesso andiamo da mamma Catherine. Vado a trovare la mamma? Asciugandosi le lacrime, il bambino chiese. Zio, mi manchi tanto. La vedrai. William gli rispose con fermezza. Quando uscirono dalla stanza, Nelly si stava versando un altro drink. Che fai? Ti porti via il cucciolo. Beh, vaffanculo! Tanto non è buono! Disse Cupa. Tu non sei una donna. Disse Dimitri. Sei un mostro. Perché hai fatto questo alla bambina? Amavi Caterina anche solo un po', l'ho fatto quando avevo i soldi. Nelly rideva. Allora non hai idea di quanto mi sia costato crescerla. Ho avuto difficoltà con lei a Washington. Mi rimproverava perché non lavoravo. Le piaceva e lavora dal primo anno. Perché? Perché è nel sangue essere schiavi. E io sono abituata a una vita facile. Quindi continua a viverla. Le disse William. E lui e la sua piccola omonima lasciarono questo appartamento, questa vecchia casa. Il loro appartamento era rumoroso e allegro. Tutti gli ospiti non erano ancora partiti. Caterina era al centro dell'attenzione. Quando William apparve sulla porta con un bambino, tutti si bloccarono per lo sconcerto. Ma Caterina era felicissima di vedere il suo amico di giardino. Oh, William! Ciao! Esclamò. Sei venuto a giocare con me? Beh, sì. Il bambino rispose timidamente, guardando i resti della tavola imbandita, dove al centro c'era un'enorme fetta di torta. Giusto! Dai prima da mangiare all'ospite! Ordinò l'adulto William. E poi, quando i bambini si sedettero a tavola, Pablo annui, e loro capirono tutto senza parole. E seguirono il figlio nel corridoio. Mamma, non preoccuparti! Ma credo di aver quasi trovato Caterina! Disse William. Caterina sembrava confusa. Anna guardò la stanza e solo allora capì il significato delle sue parole. Anna impallidì e sussultò. La mia Caterina? Sì, mamma, tua figlia! Ora è in ospedale, domani andrò a trovarla. Ci andrò anch'io! Anna era preoccupata. Ma che cosa? Sei sicura che sia lei? Come l'avete trovata? Il ragazzo! Chi è? Anche Pablo era perplesso. Il ragazzo è suo nipote. Mio nipote! Così William raccontò tutto ad Anna e Pablo. I due ascoltarono con il fiato sospeso. Poi Anna cominciò a piangere, perché era sicura che la ragazza fosse felice e aveva subito un destino così difficile. Ma starà bene, vero? Starà bene? Chiese speranzosa al figlio. Se Dio vuole, tutto andrà bene, rispose Pablo per William. Sussurrò una preghiera e pianse. Il suo cuore materno si stava lacerando. Ora si sarebbe precipitata da Caterina, avrebbe preso la sua mano, l'avrebbe premuta sulle sue labbra e avrebbe baciato e baciato e pregato per lei, standole vicino. Ma mi avrebbero fatto entrare in ospedale la sera? Mamma, vai a conoscere tuo nipote! Sentì la voce di suo figlio. Pablo stava già chiacchierando con il piccolo William. Il padre di Pablo sapeva come mettere a proprio agio i bambini e questa volta ci era riuscito. All'inizio il bambino era timido e spaventato, ma ora stava chiacchierando. Insieme al padre si sedette sulle ginocchia del nonno e gli tirò anche la barba. Il padre si limitò a ridere. Anna si avvicinò a loro e si inginocchiò davanti al piccolo William. William, nipote mio! Sussurrò. Quanto assomigli a tuo zio quando eri bambino? Sei tu mia nonna? Chiese il bambino. Un'altra? Sei una brava nonna? Beh, sembra che io piaccia a Caterina. Anna sorrise tra le lacrime. Perché stai piangendo? Sto piangendo di gioia. Anastasia, Hugh e Lisa si guardarono solo per la sorpresa. Anastasia gli aveva già sussurrato tutto. Ma era ancora difficile credere che potessero accadere tali miracoli. Ben presto il piccolo William aveva già fatto conoscenza con tutta la famiglia. Si scopre che ha due zii, due zie e due nonni, uno dei quali è così interessante, con la barba, come babbo natale. Ma Caterina dice che non è babbo natale, è un prete. Interessante, un prete! E poi ci sono due nonne. Soprattutto nonna Anna lo abbraccia e lo bacia. Baba Nelly non lo ha mai abbracciato così, tantomeno lo ha baciato. E tutto in questa storia sarebbe stato meraviglioso se la Caterina adulta fosse stata con loro. Ma non era ancora stata trovata. William non era mai riuscito a capire in quale ospedale fosse ricoverata. Ma attingendo ai suoi contatti, l'uomo ha saputo che si trovava nel primo della città. È lì che si recca con Anna e Pablo il giorno dopo. Il medico non li voleva in terapia intensiva. E si stava facendo tardi. Il padre di Pablo lo convinse a cedere. Hai ragione. Borbottò. Forse la preghiera è l'unica cosa che può aiutarla ora. Abbiamo fatto tutto il possibile. Entrarono in terapia intensiva. Caterina giaceva con la testa fasciata e aggrovigliata da fili e tubi. Vederla fece stringere il cuore ad Anna. Si ricordò di come Jay era stato sdraiato gli anni prima. Dio la aiuti! Pregò mentalmente. L'ho appena trovata. Non portatela via! Non c'era più alcun dubbio che si trattasse di sua figlia. Anche adesso, con gli occhi chiusi, Caterina assomigliava molto ad Anna da giovane. E tutti se ne accorgevano. Figlia mia, tesoro mio! Sussurrò, inginocchiandosi davanti a lei e baciandole le mani. Sono qui! La mamma è qui! Ragazza mia, ascoltami! Sono vicina! Anche William si mise accanto a lei, guardando la sorella. Per anni aveva immaginato il loro incontro. Ma pensava che sarebbe andata così. Mia cara sorella! Questo è il Guglielmo con cui cantavi canzoni, con cui giocavi, con cui dipingevi. Caterina, ti abbiamo trovata! Sussurrarono le labbra dell'uomo. Padre Pablo rimase in silenzio, pensando a qualcosa. È battezzata? Disse padre Pablo. Non lo so! Esclamò Anna. Non l'ho battezzata io. Ho fatto il rito con mio figlio quando ho iniziato a comunicare con voi. Non credo che il gangster Michael pensasse all'anima di mia figlia. E nemmeno sua moglie. Non lo penso nemmeno io. William Annui! Allora faremo il rito oggi! Disse Pablo con decisione. Tanto non farà male. Dottore, mi lascia preparare tutto qui? Il dottore si limitò a fare un cenno con la mano. Lascia che il padre ci provi almeno. I medici sono a corto di opzioni. Padre Pablo si allontanò da qualche parte, ma tornò presto con tutto il necessario per il battesimo. Era notte fonda quando Caterina fu battezzata, e poi per molto tempo Pablo pregò al suo capezzale, e così fece Anna. E anche William ha sussurrato delle preghiere. Si dice che in un aereo che cade non ci siano miscredenti. Alla testata del moribondo, tutti credono nei miracoli. La famiglia di Pablo sapeva che tali miracoli avvenivano. Mentre albeggiava, il medico chiese a tutti di andarsene. Il sovrintendente sarebbe arrivato presto e non avrebbe gradito la presenza di tante persone nel reparto di terapia intensiva. Posso restare? Chiese William. Mi siederò qui in silenzio. Preferisco. Anna si oppose. No, mamma, riesci a malapena a stare in piedi. William rispose. Tu e papà venite da noi. Ho già chiamato un taxi. E tu? Devi andare al lavoro. Pablo si accigliò. Non dovresti assentarti. Ho preso due giorni di ferie. Ho dimenticato di dirtelo. Vai a riposare. Mamma, l'importante è aver trovato Caterina. Il resto è nelle mani di Dio. Hai ragione, figliolo. Pablo rispose per lei. Andiamo, mamma, da tuo nipote e tua nipote. Se ne andarono e William rimase al capezzale. Caterina respirava in modo regolare. Sembrava che stesse per aprire gli occhi. Ma non lo fece. Guglielmo non si accorse di come, appoggiando la testa sullo schienale di una sedia vicina, si assopisse. Una mano sotto la testa e l'altra stringeva leggermente la mano della sorella. William stava addirittura facendo una specie di sogno, quando all'improvviso sentì come se qualcosa si agitasse nel suo palmo. La farfalla toccò delicatamente la sua pelle con le ali e si bloccò. William aprì gli occhi e quasi urlò di gioia. Era sua sorella che muoveva le dita. Una, poi l'altra. William uscì dalla stanza. Dottore, le dita si muovono, disse ansimando per l'eccitazione. Il dottore, che stava sonnecchiando sul divano, saltò immediatamente in piedi. Non può essere, disse dirigendosi verso la stanza. Te lo sarai immaginato? Non volevo dirlo a mia madre, ma le sue condizioni sono quasi disperate. Ma sta muovendo le dita. Il medico si avvicinò alla paziente e si chinò su di lei. No, sta sognando. Scosse la testa. E poi Caterina aprì gli occhi. William quasi gridò di gioia. Il dottore si bloccò, poi chiese. Catherine, riesci a sentirmi? Sì, posso. C'era una voce flebile. Ed era una vittoria. Una vittoria sulla morte. I medici si affannarono, le infermiere si precipitarono. William, naturalmente, fu accompagnato fuori dal reparto, con la promessa di farlo rientrare non appena la donna si fosse ripresa. Lui, obbediente, scese al pronto soccorso e aspettò. Non chiamò ancora sua madre. Anche se avrebbe voluto farlo. No, lasciala dormire, caro. Stava soffrendo in quel modo. L'attesa fu lunga. William riuscì persino a fare un pisolino. Si svegliò quando qualcuno gli tirò la spalla. Un medico del reparto di terapia intensiva era in piedi accanto a lui. Come sta? Chiese William impaurito. La paziente è uscita dal coma. È un vero miracolo. Rispose il medico. Posso vederla? Non ora, è ancora molto debole. Le forti emozioni possono vanificare tutti gli sforzi. Abbia pazienza, tra qualche giorno la faremo entrare. William è tornato a casa e ha già gioito con la sua famiglia. Caterina sarebbe sopravvissuta. Qualche giorno dopo, come promesso dal medico, William, Anna e Pablo furono ammessi nel reparto. Gli adulti portarono con sé il figlio di Caterina. Il piccolo William era così eccitato per l'imminente incontro. E quando vide sua madre, si bloccò sul posto. Sei tu? Chiese timidamente. Mio figlio? Gli rispose Caterina a bassa voce. Sono io. Non aver paura, vieni qui. Il bambino si avvicinò cautamente alla mamma e le accarezzò la mano. Mamma, mi sei mancata tanto, disse il bambino. È così bello che tu sia sveglio. È bello, figlio mio. Come stai ora senza di me? Sto bene. Ho trovato nonna Anna e zio William. Ho una sorellina. Si chiama come te. Anche Caterina. Non capisco. La donna sussurrò. Poi Anna non ce la fece più e si avvicinò al letto. Caterina, figlia mia, sono io. Sono la tua mamma, la tua mamma. Mamma. Anche Caterina sussurrò. Ma come? Mi hanno detto che eri morta, tesoro mio. Io sono viva. E anche William. Ma parliamo più tardi, ti diremo tutto. Ora guarisci. Verremo a trovarti. E non si preoccupi, il suo bambino è con noi ora. Nessuno gli farà del male. Grazie. Caterina rispose a bassa voce. Le sembrò che si trattasse di una sorta di visione. Le conseguenze del trauma. Era difficile credere a una cosa del genere. Soprattutto quando si era in bilico tra la vita e la morte. Ci volle poco più di un mese perché Caterina si riprendesse completamente. Ora ne era certa. Non era una visione. E la sua famiglia era stata davvero ritrovata. Anna e William le facevano visita molto spesso. Anastasia portava suo figlio e sua figlia. Vengono anche io e Lisa. A Caterina fu detto di padre Pablo, che doveva partire per la sua parrocchia. Ma lui era con la sua famiglia anche a distanza, chiamando. E pregò per la salute della serva di Dio Caterina. Tutti in ospedale sussurravano e ricordavano quella notte. No, è vero. Il sacerdote ha aiutato con la preghiera, con il rito del battesimo. Provate a non credere all'Onnipotente dopo questo. Caterina fu dimessa dall'ospedale tre mesi dopo. La giovane donna era un po' alconfusa. Dove doveva andare? Non voleva andare a casa di Nelly, perché c'erano troppe cose negative su di lei. Inoltre, gli ex vicini di Caterina avevano riferito che Nelly era scomparsa da qualche parte. Forse, se Caterina non avesse saputo la verità, si sarebbe precipitata a cercare la madre adottiva. Ma non ora. Nelly era anche responsabile della sua separazione dalla famiglia e le aveva mentito per anni. «La mia casa è la tua casa», le aveva detto suo fratello. E sua moglie era completamente solidale con lui. Caterina non raccontava molto di sé, ma quando si ritrovava a casa del fratello per il tè, gli raccontava quello che aveva passato. Quando fu prelevata nel parco, fu portata in un luogo fuori città. Lì le fu detto che avrebbe avuto un'altra mamma e un altro papà. Ma la sua vecchia mamma era morta e suo fratello se n'era andato. Come avrebbe potuto? Caterina piangeva, ma col tempo arrivò a credere. Tanto più che la sua vita cominciò a cambiare e partì per un altro paese. All'inizio fu interessante e la vita passata fu dimenticata. E quando Michele morì, Nelly prestò sempre meno attenzione alla figlia. Spesso gridava che l'avrebbe messa in un orfanotrofio, ma per qualche motivo non lo fece. Forse c'era qualcosa di umano in lei. Quando Caterina crebbe, si rese finalmente conto dell'abisso che c'era tra lei e la madre adottiva. Nelly non si curava di ciò che accadeva nella vita della ragazza. Non era abituata a lavorare. Caterina capì che doveva contare su se stessa. E lavorò e studiò. Non voleva lasciare la capitale. Quando Nelly parlò improvvisamente a Nixon per la prima volta dopo tanti anni, era ancora preoccupata per la madre adottiva. Per questo motivo era andata via. E per una buona ragione. Nelly sarebbe stata un disastro senza di lei. Ma almeno Caterina l'ha tenuta in vita per un po' e poi nella vita di Caterina c'è stato un grande amore e un grande tradimento. Ma niente di tutto ciò ebbe importanza quando ebbe un figlio. Come si sarebbe chiamato? Buglielmo, in onore di suo fratello, che aveva perso in un'infanzia lontana. Caterina non credeva ai presagi. La sua memoria conservava ancora alcuni eventi. Ricordava anche sua madre. Era doloroso rendersi conto che non erano più al mondo. Caterina non provò nemmeno a cercarli. Era così convinta che fossero morti. Sì, erano rimasti solo brandelli del passato. Caterina ricordava anche quella buffa canzone che era solita cantare con suo fratello. E non si sa chi le piacesse di più, se il fratello o la sorella. Anche a suo figlio piaceva la canzone. Fin da piccolo ascoltava e sorrideva quando la madre la cantava, e poi la cantava lui stesso. È stato grazie a lei che ho saputo dove cercarti. Mio fratello ha confessato. Mi dispiace di averci messo così tanto a decidere. Pensavamo che tu stessi bene. Non volevamo rovinare la tua felicità. Felicità! Caterina sorrise tristemente. Che felicità c'è senza di voi, famiglia mia? Passò ancora un po' al di tempo. Presto Caterina con il piccolo William e Anna partì per il villaggio che era diventato la loro casa di famiglia. Caterina era convinta che lei e suo figlio sarebbero stati meglio lì. Infatti, presto trovò un lavoro nella scuola. William frequentò l'asilo e un anno dopo Caterina incontrò lì il suo amore. Anche Andrea lavorava nella scuola. Padre Pablo li sposò. La famiglia, numerosa e amichevole, divenne ancora più grande. Particolarmente rumorosa nella casa vicino al tempio divenne l'estate, quando tutti avevano un periodo di ferie e vacanze. Vennero già Ugo e la sua sposa, Elisa e il suo fidanzato. E Anastasia aveva anche dato alla luce un bambino. William era così orgoglioso. Ha un erede che cresce, una dinastia militare. Se Dio vuole, sarà sicuramente un paracadutista. E Caterina era in posizione. Andrea era pronto a portarla sempre in braccio. Caterina giurava persino di non essere malata, ma solo incinta. I bambini, Catherine e William, amavano incontrarsi a casa dei nonni per giocare a nascondino. Papà Pablo e sua madre guardavano la loro famiglia e sorridevano. Ma la casa non è abbastanza grande. Forse è arrivato il momento di averne una più grande. Ma è come Dio vuole. Sì, questa famiglia ha attraversato molte prove e si è ritrovata. Un miracolo? Forse. Ma succede.